Accomodatevi, grazie. E allora, si chiama il processo a carico di Scotto Gaetano Rizzuto Francesco. Scotto Gaetano, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, oggi videocollegato alla cassa circondariale di Tolmezzo, è presente. Buongiorno da Tolmezzo, sedato della presenza di Scotto Gaetano, nato a Palermo il 12.05.52. Vengono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza e non mi sono in compatibilità con la cui presento il PG. Grazie. Grazie a lei. È difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Scozzola, presente. Rizzuto Francesco Paolo, libero assente, assistito e difeso dall'Avvocato Pietro Riggi, assente e sostituito per delevorale dall'Avvocato Scozzola. Le parti civili. Agostino Vincenzo è presente, Agostino Annunziata è presente, Agostino Flora è presente, sono difese dall'Avvocato Fabio Gaetano Repici, presente. Agostino Salvatore è assente, è rappresentato e difeso dall'Avvocato Calogero Monastra, oggi sostituito per delevorale dall'Avvocato Repici. Castelluccio Antonella, presente, assente, Avvocato Enrico Bennici, presente. D'Alessandro Michelina, assente, Avvocato Giustino Ferraro, oggi sostituito per delevorale dall'Avvocato Sonia La Dolcetta. Castelluccio Antonino e Castelluccio Francesco sono entrambi assenti e rappresentati ai difesi all'Avvocato Salvatore Modica, presente. Scusi, Castelluccio Francesco è presente. Francesco. Difesi dall'Avvocato Salvatore Modica, presente. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Intenno, Presidenza della Regione Siciliana, rappresentati all'Avvocato Federico Baffa, non lo vedo, è assente. Comune di Palermo, rappresentato dall'Avvocato Giuseppe Di Natale, assente. Centro Studi Piela Torreollus, Avvocato Ettore Barcellona. Presidente, sostituisco io, Avvocato Domenico Grazza. Grazie, invocato. Libera, associazione in nomi e numeri contro le mafie, Avvocato Vincenzo Arrando, Avvocato Domenico Grass per Delega Orale. Carollo Salvatore Dario, assente. Rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Modica, presente. Carollo Francesco, assente. Carollo Giulia Costanza, assente. Avvocato Claudio Alongi, presente. Per la Procura Generale, sono presenti il Dottore Gozzo e il Dottore De Giglio. Sì, e allora, abbiamo fatto intanto che le parti presenti sono tutte munite di dispositivi individuali di protezione, debitamente distanziate. Pubblico Ministero, oggi il processo veniva per l'esame del collaboratore Onorato Francesco. Il collegamento col collaboratore è pronto e c'è presente l'Avvocato? Sì, è presente l'Avvocato Roberto Avellone, difensore di fiducia di Onorato Francesco. Grazie, Avvocato. Ora, ci possiamo collegare con il sito? Nel frattempo, se il Pubblico Ministero e le parti ci vogliono chiarire la posizione giuridica di Onorato. Presidente, assente sicuramente onorato a sentenza di condanna per 416 bis, questo è evidente. Stavamo vedendo se c'erano delle pendenze, perché a me non avevano consegnato i carichi pendenti, quindi non li avevano potuti dire. Ci può anche aiutare il difensore, Avvocato, a procedimenti pendenti, il suo assistito? No, Presidente, nessun procedimento pendente. Quindi, per quello che lei sappia dalle sue conoscenze, è irrevocabilmente giudicato per il 416 bis, è così? Esatto, sì. Il Pubblico Ministero su questo ha altre notizie, altre discordanti, quindi conferma il dato? Sì. Avvocati di parte civile, ci sono... Ci sono in atti interrogatori del dichiarante del signor Onorato, nei quali egli ha ricevuto gli avvisi di cui è l'articolo 64, lettera C, proprio rispondendo sui fatti di cui ha l'odierno processo, in questo procedimento. Sì, ma tra l'altro è irrevocabilmente condannato, quindi forse anche il discorso degli avvisi dovrebbe essere... Ditemi come volete sentirlo. Il Pubblico Ministero? Test assistito, Presidente. Test assistito, direi primo comma, forse. Primo comma. Avvocati di parte civile? Concordano? Avvocato Repici? Avvocati dell'imputato? Avvocato... Nessun problema, Presidente. E allora, la Corte... Rilevato che... L'odierno dichiarante Onorato Francesco risulta essere stato già irrevocabilmente condannato per il reato di quell'articolo 416 bis del Codice Penale, virgola, collegato ai fatti per i quali oggi si procede. E peraltro, già sentito con gli avvisi di quell'articolo 64, lettera C, in ordine ai fatti per cui oggi si procede, per questi motivi sentite le parti che concordano, dispone sentirsi il predetto Onorato Francesco, nelle forme di cui è l'articolo 197 bis Codice di Procedura Penale. E allora, sito riservato. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, Signora. Ci può identificare allora il soggetto che è lì con lei e che noi vediamo di spalle? Intanto, ci vedete e ci sentite? Sì, vi sentiamo e vi vediamo. Sì, chiedo anche al... A Tolmezzo, voi vedete anche lo schermo nel quale si vede di spalle la figura dell'Onorato? Cioè, vedete sia la nostra Aula che... Vedete e sentite? Sia la nostra Aula che l'Aula riservata, l'Aula, diciamo, protetta, remota. Ecco, scusate, non mi venire al te. Sì, Presidente, vediamo tutte e due le schermate. Perfetto. Allora, signora, stavo dicendo, ci vuole identificare l'Onorato e darci tutte le disposizioni di legge, tutte le previsioni della legge. Sì, Onorato Francesco è presente qui, nato a Palermo, il 16 novembre 60. Il collegamento è perfetto. Sì, ci sono situazioni che possono influire sulla sua libertà, sulla sua autonomia di... No, quindi tutto... No, no, si dato che sono state osservate tutte le cautele per la regolarità. Perfetto. Onorato, lei ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, signor Onorato. Senta, lei è già stato irrevocabilmente condannato per il reato di associazione mafiosa, è così? Sì, sì. Attualmente non ha pendenze ulteriori? No, no, sono libero. È libero. Allora, in questo senso lei viene oggi sentito come testimone assistito. Intanto il primo dato della sua assistenza consiste nel suo diritto ad avere un difensore. Lei ha un difensore di fiducia? Sì, Roberto Avellone, fuori di Palermo. L'Avvocato Roberto Avellone. Diamo atto che l'Avvocato Roberto Avellone, che si era già presentato, è qui presente nell'Aula di Palermo, signor Onorato. Capisce? Quindi il suo difensore è qui. Quindi io, sulla base di quello che le ho detto, le ribadisco che lei oggi è testimone, sia pure con le garanzie previste dalla legge, prima fra tutte l'assistenza del difensore, come testimone lei comunque ha l'obbligo di dire la verità. Perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti. Se non dicono la verità, commettono il reato grave di falsa testimonianza. Sono stato chiaro? Sì, sì. Legga, signor Onorato, legga la formula che c'è davanti, o dovrebbe avere la formula dell'impegno, prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ci dia le sue generalità, ovviamente omettendo la sua residenza. Onorato Francesco, nato a Palermo il 16-11-1960. Va bene. Possiamo dire che lei attualmente è domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione? Sì. Va bene. Prego, Pubblico Ministero. Grazie, Presidente. Posso rimanere? Prego, prego. Signor Onorato, buongiorno prima di tutto. Buongiorno. E allora, io volevo che lei cominciasse riferendo alla Corte, quali sono stati i suoi rapporti con l'Associazione Mafiosa Cosa Nostra? Sì, sono stato affiliato a Cosa Nostra nel 1980, nel mandamento all'epoca di Rosario Enrico Bono, Partanna Mondello. Sono stato successivamente reggente nell'87, per volere di Salvatore Reina, Salvatore Biondino, fino al mio arresto che è stato nel 1993. Quindi lei è stato reggente di Partanna Mondello, se ho capito bene, della famiglia di Partanna Mondello. Di quale mandamento faceva parte la famiglia di Partanna Mondello? Noi eravamo sotto il mandamento di San Lorenzo, di Salvatore Biondino, Pippo Gambino. Perfetto. Nell'ambito della sua collaborazione, lei ha reso... Da quando collabora prima di tutto? Io ho collaborato nel 1996. Lei ha reso dichiarazioni su quali... Non le dico chiaramente, ripetele tutte le sue dichiarazioni, dico su quali categorie di fatti, per comprendere. Ha riferito di omicidi, di estorsioni? Sì, mi sono autoaccusato per l'Associazione Mafiosa, che sono stato definitivamente condannato e ho pagato pure la pena, scontato, per gli omicidi di cui mi sono accusato, oppure per l'esecutore dell'omicidio Salvo Lima, per la scomparsa di Emanuele Piazza e per altri omicidi di cui ne ho parlato. Senta, poi magari approfondiamo, lei ha parlato adesso della scomparsa di Emanuele Piazza. Ecco, se ci vuole cominciare a riferire, lei in quale modo conosceva Emanuele Piazza, se lo conosceva, da quando e come si è arrivati all'uccisione del Piazza? Sì, Emanuele Piazza lo conoscevo da ragazzo perché praticavamo la palestra insieme, quindi poi lui ha preso la strada di fare il poliziotto, io ero Cosa Nostra e così, insomma ogni tanto si incontrava, ma lui non sapeva che io ero di Cosa Nostra, ogni tanto si incontrava e poi si beveva qualcosa e poi successivamente è successo il fatto che lui cercava latitanti, si era pure informato con me dicendo che io potevo dargli una mano e poi successivamente è stato strangolato da me, Biondino e altre persone di cui sono state condannate, definitivamente. Sì, forse siamo stati un po' troppo veloci. E allora, quindi collochiamo temporalmente questi fatti. Lei ha parlato prima della palestra insieme, prima ancora che lui cominciasse a fare il poliziotto. In che anno siamo? Ma siamo 78, 79, 80 in quel periodo. E poi invece lei ha parlato di una fase in cui Piazza ricercava latitanti. Sì, perché lui girava nella zona di San Lorenzo, mi aveva comunicato a me che cercava latitanti, aveva un prezziario. Io poi un giorno, mentre ero con Salvatore Biondino a Sperracavallo, con Simone Scalici, Salvatore Biondo e Lungo, Salvatore Graziano, lui si era fermato per comprare un pollo in una macelleria che era proprietario di Simone Scalici e da lì Salvatore Biondino si era accorto che io mi ero salutato con lui e così mi aveva comunicato che lo dovevamo uccidere. Da quei momenti in poi poi me lo sono curato e successivamente è stato strangolato lì a Capaci. Senta, non le faccio domande proprio specifiche sullo svolgimento, questo è stato oggetto di un altro processo, sullo svolgimento dell'omicidio. Le chiedo semplicemente alcune cose che possono rilevare in questo procedimento, chiaramente per quello che è il mio intendimento della pubblica accusa. Lui venne ucciso per strangolamento? Sì, sì, sì. L'abbiamo portato in un negozio di mobili che era proprietario di un certo Troia e lì a Capaci è stato strangolato lì. Per una scusa l'ho portato lì e quindi è stato consumato lì l'omicidio. Senta, disse prima di morire dei nomi? Prima di morire lui mi aveva detto a me Ciccio non lo fate perché mi chiamava Ciccio perché lo sanno. Lui parlava che lo sanno, si rifareva di Gennaro ai suoi colleghi che lui collaborava. Lo sanno che cosa intende dire? Cioè sapevano che cosa? Lo sanno che sono venuto da te, lo sanno che sto facendo le indagini, si intendeva dire questo. E fece solo il nome di Gennaro o fece anche altri nominativi? No, non mi ricordo dottore se aveva fatto anche altri nominativi. Mi sembra che c'era un certo di Blasi che lui, se non erro, mi aveva fatto pure il nome di lui. Sì, lei aveva già riferito di Blasi, di Gennaro e poi ha detto un terzo nome che non ricordo. Io le volevo chiedere se lei ha mai sentito parlare di Grignani Massimo. Era comunque una persona dei servizi? Lei allora come lo ha catalogato? Sì, diceva che lavorava per i servizi, diceva che lavorava per di Gennaro, per tutte queste persone di qua. Senta, Piazza conosceva Contrada? Sì, Piazza conosceva Contrada, che lui me ne parlava in diversi colloqui, in diverse occasioni, quando andavo a mangiare qualcosa fuori. Conosceva, qualche volta mi ha fatto pure il nome di un certo Speranza. Mi faceva tanti nomi che lui conosceva e che erano persone con lui molto vicino. Ma le disse anche perché lui intratteneva rapporti con Contrada e soprattutto se c'erano rapporti tra Contrada e De Gennaro che lei ha già citato, diciamo, De Gennaro? No, no. Su certi argomenti si parlava così in sintesi anche perché io ero molto schivo nella cosa, come se la cosa non mi interessava. Non le disse che c'erano contrasti tra De Gennaro? Non è che mi interessava tanto perché lo conoscevo e volevo evitare, diciamo, qualsiasi situazione con lui perché mi dispiaceva tantissimo. Poi lì è stata la disgrazia che ci hanno visto salutare, ci hanno visto abbracciare e quindi da lì è successo. Se no, era una cosa che io, diciamo, me la tenevo per me, anche perché lui mi aveva fatto dei favori. Lui, intendiamo, piazza. Piazza, sì, sì. Mi avevano detto che mi avevano visto assieme con Salvatore Graziano, con alcuni mafiosi, mentre che stavano indagando. Beh, io ho detto io faccio lavori di ristrutturazione, quindi magari posso incontrare chiunque, non è che ci posso chiedere la pedina penale alle persone per farci lavori. Insomma, mi negavo il mio appartenente a Cosa Nostra, però lui sapeva che io conoscevo persone. E beh, certo. Lei era stato seguito da Di Blasi, da questo punto di vista? Cioè, le disse qualcosa in relazione a questo? Sì, sì, sì. Poi ho dato un compenso pure di denaro allo stesso Di Blasi, mi faceva sapere, insomma, se si era messo a disposizione. Si era entrato, insomma, in un rapporto confidenziale. Di Blasi l'aveva... E anche a livello di corruzione, perché si era fatto corrompere il Di Blasi. Di Blasi l'aveva vista insieme ad altri mafiosi? Sì, mi aveva visto, dice che mi aveva visto con Biondino, con Graziano, con Simone Scalici, a Villa Scalea, con persone... Ho detto io faccio lavori lì, ma non è che... mi ci buttavo negativo. Questo glielo disse Piazza? Piazza e anche il Di Blasi. E anche il Di Blasi. Senta, ritornando alla domanda che l'avevo fatto poco fa, io l'avevo chiesto dei rapporti tra De Gennaro e Contrada. Io, lei, ora, oggi non ha risposto su questo. Le dico che il giorno 11 luglio del 2017, quando glielo abbiamo chiesto, lei ha, dice, Piazza le disse che De Gennaro e Contrada erano in contrasto. Stavamo contestando un altro verbale e lei ha risposto, sì, 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 con De Gennaro non poteva vedere Contrada. Quindi ne avete parlato di questo fatto? Sì, sì, me lo disse il Piazza. Sì, 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 ricordo che me lo disse il Piazza, perché sono un discorso un po' lontano. Però mi ricordo che non era visto bene il Contrada da De Gennaro e neanche da lui, che lui era molto intimo con, mi diceva che era molto intimo con De Gennaro e quindi non era visto bene. Senta, ma De Gennaro sapeva che Piazza avesse rapporti anche con Contrada? No, non mi ricordo se me l'aveva detto pure questo. E allora, sempre lo stesso verbale. Pagina 7, delle trascrizioni del verbale, 11 luglio 2017. De Gennaro, e allora, lei dice rispondendo, col Contrada mi ha detto che aveva un buon rapporto, però che De Gennaro non voleva che lui avesse rapporti con Contrada. Perché, le chiede il dottore Scarpinato, perché dice che non si fidava. Le chiede a chi De Gennaro non si fidava di Contrada, De Gennaro non si fidava, mentre lui invece faceva come se facesse un doppio gioco, il Piazza. Sì. Me lo puoi spiegare? Quello che mi diceva Piazza a me, perché noi andavamo a mangiare qualche panino insieme, si parlava di tutte queste cose. Quello che mi diceva lui a me, il Piazza, che mi dava queste confidenze, che di Gennaro non si fidava, però lui faceva, diciamo, un po' il doppio gioco, perché voleva sapere sia da una parte che dall'altra. Diciamo, era uno che è molto determinato in queste cose. Senti, a Piazza le aveva detto quali erano le sue fonti, diciamo, visto che cercava lati tanti. A parte lei, chi c'era? Sì. Lui aveva una lista che cercava, aveva un preziario pure, che cercava Provenzano, Lopiccolo, Rosina. mi diceva che se riuscivamo a prendere un reina, se io avevo dei... se sapevo qualcosa, se avevo qualcuno che mi informasse, insomma, perché a lui davano all'epoca, c'era un miliardo, un miliardo e mezzo, quello valeva 600 milioni, quello ne valeva 500, insomma, aveva... che poi lui se ne voleva andare in Tunisia facendo il colpaccio, arrivando... se riusciva ad arrestare questi lati tanti. Senta, le fece mai il nome dei mazzè? Sì, lui era molto intimo con i mazzè, in particolare con Enzo, Enzo mazzè, che poi noi successivamente lo volevamo uccidere a questo, e poi si è salvato perché quando ci siamo andati con Giovanni Ferrante nella salumeria lì allo Zen, c'era la madre, e non abbiamo trovato a lui dentro il negozio. Poi successivamente siamo andati lati tanti per quanto riguarda... io sono andato lati tanti per quanto riguarda che mi imputavano come mandante dell'omicidio Lima, i 24 mandati di cattura, io Reina, Provenzano, Calò, insomma, tutta la cupola, mi avevano messo pure a me nel mezzo come mandante, come esecutore. E così è saltato il progetto di uccidere anche il mazzè, che era molto intimo con lui. Mi può dire che cosa facevano questi mazzè? Cioè, facevano parte di Cosa Nostra, non facevano parte? No, 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 che cosa facevano? Rapine, facevano rapine, spaccio, furti, queste cose di qua, si occupavano di queste cose ed erano molto intimi con Emanuele Piazza. Sì, c'era... Lei conosce anche Nicola Ferrara? Il nipote di Enzo. Sì, questo Ferrara... Sì, sì, pure dello Zen. Sì. Senta, ma... Biondino le disse per quale motivo bisognava uccidere Mazzè? Ma prima perché loro non rispettavano per niente e dicevano anche agli altri di non dare mai niente ai mafiosi, allo Zen, e poi perché erano intimi con le conseguenze che erano molto amici con il Piazza. Le disse nulla che riguardava in particolare l'omicidio Agostino relativamente a Emanuele Piazza? Perché lui diciamo che aveva il il modo di di sviare anche un po' le cose della cosa nostra il biondino quando succedeva qualcosa sempre per sviare un pochettino gli dicevano che i Mazzè potevano essere responsabili dell'omicidio Agostino oppure erano responsabili di altre cose che magari che magari poi faceva cosa nostra solo che gli diceva che erano magari gli altri sempre come dicevo pure io agli altri c'era questo modo di di sviare un po' le cose. E perché che sviava biondino cioè che motivo c'era di sviare all'interno di cosa nostra? E perché i tempi erano cambiati e quindi si faceva sempre in modo che gli altri sapessero che cosa nostra non c'entrava niente in certe cose in certi omicidi anche io quando ho fatto l'omicidio a Lima dicevo che erano state da fuori in famiglia stesso a Lino Porcelli che faceva parte della nostra famiglia gli dicevo che dobbiamo cercare perché chi è che è stato ad uccidere Lima come si sono permessi invece ero io stato l'esecutore era diventata un un modo di discreditare un po' Cosa Nossa e che magari c'erano altri che venivano a fare queste cose Lei ha parlato anche di ciò che ha detto relativamente all'attentato alla D'Aura per cui lei è stato pure imputato tra l'altro Sì io sono stato pure condannato per il fallito attentato alla D'Aura assieme con con gli altri imputati Cosa diceva in Cosa Nostra lei sull'attentato alla D'Aura cosa le dissero di dire che erano state persone di fuori che erano state servizi segreti che erano state sempre a discreditare che eravamo stato noi Senta arriviamo un attimo a Imadonia lei lei faceva parte di Partanna Mondello Imadonia li conosceva e come li conosceva? Io Imadonia conosco tutti perché anche perché abbiamo fatto dei strangolamenti insieme omicidi e via di seguito conosco il padre conoscevo i figli Giuseppe Nino Salvo Aldo la moglie perché c'era un rapporto molto intimo con con il mandamento di Resuttana San Lorenzo anche prima quando c'era Rosario Riccobono come capomandamento Nino Imadonia era sempre lì poi è cambiato il mandamento dopo la scomparsa di Rosario Riccobono e il rapporto si è è diventato un po' di fratellanza con Salvatore Biondino Pippo Gambino quando loro hanno preso Cosa Nostra totalmente nelle mani assieme con Reina Cicciovadonia Pippo Gambino quelli che veramente realmente comandavano Cosa Nostra diciamo che il capomandamento era il padre Ciccio Madonia ma realmente comandava Nino Madonia perché anche il padre non prendeva decisioni dipendeva tutti Nino Madonia da cosa dipendeva diciamo questa questa forza di Nino Madonia all'interno del mandamento e di Cosa Nostra diciamo così ma perché Nino Madonia era come prezzemolo ovunque scusando il termine in tutto quello che succedeva in Cosa Nostra passava dalle mani di di Nino Madonia di Pippo Gambino di Salvatore Biondino e quindi la forza Nino Madonia faceva paura anche a Reina perché si parlava certe volte in confidenza con Salvatore Biondino con lo stesso Giovanni Ferrante Salvatore Biondino del corto che quando arrivava Madonia Nino Madonia anche gli altri capi mandamento avevano molta attenzione su di lui perché era uno che portava avanti tutti i progetti a livello terroristico tutti queste attentate queste cose quindi avevano questo apprezzamento ma più che altro un po' di timore Senta c'è qualche episodio che ci può ci può dire da cui diciamo deriva che Reina appunto temeva Nino Madonia o comunque lo teneva in grande considerazione ma io mi ricordo sempre parlando sempre con queste persone una volta mi disse pure Salvatore Biondino che Reina voleva voleva morto Orlando mentre Nino Madonia era contrario alla morte di Orlando Orlando non è stato poi ammazzato perché Nino Madonia pensava che era una cosa che si poteva evitare in quanto Orlando il sindaco Orlando era molto voluto bene dalla popolazione di Palermo perché aveva fatto tanto e di questo se ne parlava era risaputo in Cosa Norsa che c'era questo insomma questo fatto che Nino Madonia e qualche altro capomandamento non ricordo in questo momento erano contro questa cosa Nino Madonia aveva il suo il suo peso in Cosa Nostra era uno che dava tutto ed era come pensiamo perché lui affiancava tutte le famiglie che era col mandamento di Resottana San Lorenzo che se ne andava a San Giuseppe Iato che andava era con tutte le batterie che giravano le batterie dicono tutti i gruppi che funzionavano a livello gruppo di fuoco lui era con tutti era con Biondino era con Brusca era con Graviano era con Mariana Agate in qualsiasi posto c'era lui quindi era pronto a fare omicidi lei ha parlato delle batterie intende questo diciamo sì sì gruppo di fuoco che facevano parte della commissione pure di cui io sono ho fatto pure parte poi negli ultimi anni prima di collaborare senta la il mandamento di Resottana oltre ai Madonia su chi poteva contare dal punto di vista anche proprio della forza militare ma la forza dei Madonia era nei Galatolo che era sotto il mandamento di Resottana l'Acqua Santa poi c'era la famiglia dell'Acqua Santa poi c'era la famiglia della Renella poi c'era sì questa l'Acqua Santa Renella Resottana questa di qua senta sa se Nino Madonia aveva rapporti con Giovanni Brusca molto intimi molto intimi che poi era risaputo in Cosa Nostra si parlava erano intimi con i Brusca sì a livello che avevano fatto tante cose insieme una volta mi disse Giovanni Ferrante che aveva partecipato all'attentato di Chinnici parlando in confidenza perché con Giovanni Ferrante si parlava sempre eravamo in buoni rapporti abbiamo fatto l'omicidio lì insieme mi aveva detto che c'era pure Giovanni Brusca e Nino Madonia assieme con lui nell'attentato a Chinnici anche in in altre situazioni che in questo momento non ricordo senta Nino Madonia diciamo il suo potere lo basava solo diciamo così sulle conoscenze interne a Cosa Nostra o aveva delle conoscenze importanti diciamo all'esterno di Cosa Nostra ma era risaputo che tutta Cosa Nostra poi queste cose diciamo che sono un po' sviarite con la collaborazione di Buscetta di Mannoia e poi successivamente di tutti gli altri ma prima si parlava apertamente in Cosa Nostra che i Madoni avevano rapporti con i servizi segreti con l'istituzione poi aveva rapporti come ne ho parlato in altri processi con con la Barbera con con altri insomma di cui io ne ho parlato anche in altri processi sì sì però lo deve ripetere qua perché la Corte chiaramente non li conosce quindi lei diceva la Barbera ma lei parla di la Barbera insieme ai servizi ma c'è un motivo per cui lei accomuna la Barbera con i servizi perché perché si sapeva in Cosa Nostra per come ho detto di come loro si vantavano di avere questi rapporti e quindi era una cosa risaputa poi c'è stato un periodo che si doveva uccidere la Barbera perché aveva un po' girato le spalle poi oppure perché magari sapeva troppo oppure poi io l'ho seguito a questa cosa fino a un certo punto poi mi hanno arrestato e è stata accantonata il fatto che si doveva uccidere la Barbera in alla Pella del Golfo lì a Terrasini Senta signor onorato mi scusi lei capisco che lo può dare per scontato ma quando parla di la Barbera intende riferirsi a chi? La Barbera il commissario il commissario della Barbera quindi commissario di polizia di polizia sì dobbiamo fare un'ultriere specificazione perché ce ne sono due la Barbera Arnaldo la Barbera stiamo parlando mi scusi signor Arnaldo la Barbera l'amico mio la Barbera è collaboratore invece questa è la Barbera come? no l'ho fatto una domanda specifica dico era Arnaldo la Barbera Arnaldo la Barbera il capo della squadra mobile in quei periodi che c'era un Salvatore la Barbera quindi dovevamo specificare chiaramente sì sente ma perché non venne ucciso la Barbera cioè questo progetto di cui lei ha parlato perché non venne concretizzato? perché poi io sono stato arrestato Biondino tutti quelli che insomma è successo poi si era accantonata sta cosa perché io l'ho seguito e l'ho pedinato per un periodo in estate del 92 poi sono stato arrestato per l'omicidio Lima assieme con altri Salvatore Biondino era stato prearrestato insomma questa cosa poi è saltata solo per questo motivo c'era qualcuno che si opponeva all'uccisione di la Barbera? Ma in Madonia stesso in Madonia e perché si opponeva? ma si opponeva perché lui diciamo se l'era trovato uno che l'aveva non lo voleva toccato poi fu arrestato Madonia e quando fu arrestato successivamente spuntò Salvatore Biondino che si doveva uccidere la Barbera ma non so il motivo perché poi è cambiata la cosa quindi c'era questo progetto quindi il progetto ci fu solo dopo l'arresto di Nino Madonia o anche prima dell'arresto di Nino Madonia il progetto di uccidere la Barbera intendo dire dopo l'arresto di Nino Madonia ho capito ma ricordo quando lui aveva aveva ucciso un rapinatore un certo fasone perché a Palermo in Cosa Nossa a Palermo Sicilia nessun carabiniere si può permettere di uccidere uno di Cosa Nossa oppure un rapinatore perché le regole di Cosa Nossa erano che dovevano uccidere e sparare solo quelle di Cosa Nossa e quando succedevano queste cose per come è successo poi con Angelo Galatolo quando la polizia ha ucciso Angelo Galatolo che poi ne hanno pagato le conseguenze chi l'ha ucciso è una regola di Cosa Nostra però signor Onorato cerchigli non accavallare troppo gli episodi perché per lei sono episodi come dire conosciuti e scontati ma li dobbiamo spiegare lei parlava di fasone mi pare che aveva iniziato a parlare di questo episodio è successa qualcosa lì quando la barbera se non ho capito male è stata la barbera ad uccidere fasone il rapinatore e questo che cosa ha comportato mi pare che stesse dicendo qualcosa potrei sbagliare se finisce il discorso ce lo dica sì sì signor Presidente io lo dico subito ha comportato che quando è stato ucciso fasone che era molto vicino alla famiglia dell'acqua santa regalatolo non è successo non è successo niente alla barbera mentre invece se era qualsiasi poliziotto pagava le conseguenze da lì era perché non era intoccabile Barbera era intoccabile sì vabbè quindi questa è la sua senta lei parlò con Pino Galatolo proprio di questa della posizione di la Barbera e di Nino Madonia sì io con Pino Galatolo ho parlato in diverse occasioni anche a Lucciardone che abbiamo avuto degli argomenti però in questo momento non mi ricordo se eravamo nella stanza insieme comunque ne avevo parlato con Pino Galatolo si parlava in diverse occasioni abbiamo parlato lei ha detto pagina 36 sempre il verbale l'11 luglio del 2017 che eravate alla seconda sezione non so se eravate nella stessa stanza sinceramente non l'ha detto mi diceva che era una persona che aveva a cuore di Nino Madonia cioè la Barbera siamo parlati sì questo lo confermo Pino Galatolo lo confermava pure Pino Galatolo lo dice senta ma lei ha mai sentito parlare dei Madonia in relazione ad alcune bombe che vennero piazzate all'inizio degli anni 70 sì io le ho sentito parlare fine 70 80 successivamente che loro avevano fatto dei favori all'epoca Saro Riccobono ne parlava Salvatore Michalizzi che era sotto capo del mandamento di Rosario Riccobono successivamente anche con altri uomini d'onore ne ho parlato che loro si vantavano avevano questi rapporti avevano fatto anche dei favori ai sebbizi loro lei si riferisce a Madonia Madonia quando se lo ricorda cerchi di dire nomi così siamo tutti scusi lo farò anche io Presidente di ricordarlo le volevo chiedere una cosa tornando un attimo a parlare di Piazza lei appunto diceva che Piazza aveva i preziari e che cercava dei latitanti e gliene aveva parlato che lei sappia per quello che è chiaramente la sua conoscenza c'erano oltre a Piazza altre persone che erano interessate a questa ricerca dei latitanti ma il Biondino mi disse che ce n'erano diversi che avevano questo compito però io mi sono solamente interessato a quello di Piazza lei sempre nello stesso verbale dell'11 luglio del 2017 a pagina 48 ha riferito anche di un certo Genova Genova sì Genova quello che è scomparso aveva avuto pure un ruolo sempre per lo stesso motivo mi disse Biondino che personalmente non ho partecipato senta lei sa se Piazza e Agostino si conoscessero lui conosceva tutti quelli della caserma di San Lorenzo era in buono il rapporto sia con questi di San Lorenzo che cosa però non mi ricordo se mi disse qualche volta che conosceva Agostino questo che era stato ucciso a Carini non me lo ricordo questo e allora lei ha riferito stiamo parlando pagina 61 dice ma io si parla della perquisizione che avevano subito in Mazzè oh ma io sto usando questo e subisce una perquisizione e lui da qua si era incavolato ma stiamo parlando 88-89 e le viene chiesto è di Agostino ne parla mai il piazza di questo Agostino successivamente quando lui è morto non ne parlava bene ecco e poi noi ne facciamo altre domande lei ricorda qualcosa da questa prima risposta che rese sì perché ci fu questa perquisizione diverse perquisizioni hanno subito i Mazzè che loro lamentavano con mi diceva il piazza che lamentavano con con loro e quindi c'era questo questo un po' il rapporto non forse non era buono mi ricordo comunque avevano dei problemi fra il piazza e l'Agostino per quanto riguardasse fosse qualche cortesia che non ci faceva al piazza per evitare evitare queste perquisizioni di cui lui aveva di bisogno dei Mazzè quindi cercava di addolcire di addolcire un po' i Mazzè perché era convinto che i Mazzè gli potessero dare tanto quindi lui era contrario alla perquisizione stiamo dicendo stiamo parlando di piazza di piazza sì 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 perché lui era convinto che i Mazzè gli potevano dare tanto e quindi cercava sempre di evitare anche agli altri come se lui li curava e che poteva arrivare a qualcosa di buono tramite i Mazzè cioè voleva proteggere le sue fonti insomma essenzialmente sì le sue fonti che che informative che gli davano informazione e lui era convinto che gli potevano dare informazione per quanto riguardava lo piccolo sempre per questi motivi senta e le disse qualcosa relativamente ad Agostino sul fatto della morte di Agostino ci fu in questo momento non me lo ricordo ma ci fu una cosa che mi disse anche a livello per quanto riguardava che parlava pure dei Mazzè su questo però non mi ricordo bene in questo momento dottore e allora io sempre pagina 63 sempre dello stesso verbale per la difesa lei dice che le disse appunto che non era visto bene che non si erano dispiaciuti i personaggi sempre delle istituzioni si parla che erano persone vicine a lui questo glielo dice Piazza che non sono stati tanto dispiaciuti perché era un pezzo di merda chiedo scusa presidente perché faceva le cose di testa sua e lui gli aveva fatto dei torti stiamo parlando di Agostino chiaramente sì certo sì sì mi ricordo questi argomenti ma erano erano le sue il suo modo di fare poi magari nella sua testa pensava che che uno ci poteva sentire piacere che lui parlava così è che lui faceva tutti questi giochetti il piazza quindi era vero non era vero erano d'accordo erano d'accordo quello che diceva lui era questo ma quindi le disse che lo conosceva o era soltanto diciamo una questione relativa ma lui conosceva tutti ma lui conosceva tutti a San Lorenzo dottore conosceva a San Lorenzo e anche a Mondello conosceva tutti ma mi diceva sempre qualsiasi cosa hai bisogno qualsiasi cosa non ti preoccupare sì sì lui conosceva sia a San Lorenzo che a Mondello anche alla centrale senta una cosa le volevo chiedere il piazza le ha parlato dei mazzè che vabbè facevano capo allo zen lei ricorda aveva un rapporto particolare con lo zen anche altre fonti sue erano allo zen lei per esempio in quel periodo lavorava allo zen aveva dei lavori presso lo zen sì io facevo ristrutturazione Mondello Oasi Verde zen avevo un'impresa edile poi avevo pure in società con lo scavatore fabbro e quindi avevo pure dei personaggi che allo zen mi facevano osservatore osservavano tutto quello che succedeva allo zen e me lo ponivano a raccontare persone di fiducia per dire c'era un certo Basile che poi successivamente è stato ucciso c'era un certo Orlando Felice Orlando che erano tutti insomma sopravvisore del zen che mi raccontavano tutti quelli che rubavano che facevano rapine tutte queste cose di qua poi c'era un certo Venturini pure che conosceva pure lo stesso piazza che spesse volte ha visto insieme a me il piazza con Venturini queste erano tutte persone che erano vicino a me che mi dicevano mi informavano di tutto quello che succedeva allo zen senta questo Basile di cui lei ha parlato riferì circostanze relativamente al fatto che i mazzè erano fonti di piazza come mi scusi dottore cioè disse disse in Cosa Nostra che i mazzè erano fonti di piazza sì lo disse sia il Basile Felice che anche il Venturini ma tutti sapevano che loro erano intimi con piazza senta questo Basile aveva parentele all'interno di Cosa Nostra importanti sì era vicino a noi era vicino a noi aveva parentele con i Vernengo con Pietro Vernengo sì con Pietro Vernengo e lui era molto intimo pure con quello che è stato ucciso c'era pure una mezza parentela con la mattina la mattina non c'è la mattina che infatti il fratello Nino che abita all'Ozene camminava assieme con assieme con il Basile senta lei mi ha sentito parlare di un certo volo sì il volo è stato un era un obiettivo nostro di prenderlo e strangolarlo per richiesta di Salvatore Biondino e quindi poi questo volo è saltato pure il progetto per lo stesso motivo che ci hanno arrestato perché era anche un nostro obiettivo strangolarlo quindi stiamo parlando poco prima del suo arresto sì lui aveva comprato una villa all'Oasi Verde di Mondello e quando uno comprava una villa qualcosa uno si informava sempre chi comprava chi veniva abitare e quando lui ha preso aveva trattato questa villa a Mondello Osi Verde abbiamo avuto il discorso con Salvatore Biondino che era una persona da eliminare le disse Salvatore Biondino per quale motivo era da eliminare chi era questo volo ma era uno che si occupava di un estremista politica cose insomma tutte queste cose di qua ma mi disse solo questo che dovevamo eliminarlo lui mi sembra che aveva a San Lorenzo una scuola una scuola privata o faceva parte di questa scuola poi la cosa non si è fatta più Senta le riferì qualcosa relativamente a Concutelli all'estremista di destra Concutelli Sì che era intimo di Concutelli si occupava di che era un estremista di queste insomma per questo motivo me ne parlò e poi non si piace più Ma c'erano rapporti conflittuali tra Concutelli e Volo? Lui mi disse che era che era aveva a che fare con Concutelli aveva avuto un problema non mi ricordo in questo momento comunque Concutelli erano in rapporti non so se erano in brutti rapporti o in buoni rapporti comunque aveva a che fare con questo Concutelli che era un estremista per questo motivo Ma quando lei dice lui mi disse si riferisce a chi? Salvatore Biondino Salvatore Biondino 6 6 6 No l'ho detto l'ho detto Salvatore Biondino Senta Siano Onorato sua moglie ha mai avuto problemi durante diciamo la sua collaborazione c'è c'è mai stato un momento in cui lei ha temuto per l'incolumità della sua famiglia Sì all'inizio mi sembra che ci sono stati dei problemi poi successivamente abbiamo avuto problemi negli ultimi anni con i parenti i suoi che la volevano uccidere ci volevano uccidere insomma tutte queste cose di qua abbiamo cambiato diversi località per questi motivi insomma qualche problema l'ha avuto sì in particolare nel verbale del 21 marzo del 1997 lei signor Onorato ha segnalato questo dice segnalo alla signoria vostra un episodio che mi è stato riferito alla mia moglie di fronte a uno degli ultimi colloqui effettuati e cioè che la stessa mentre si allontanava presso questo complesso carcerario insieme alla scorta è stata avvicinata da una motocicletta di grossa cilindrata e da una macchina targata Palermo che li talonava con atteggiamento minaccioso di tale fatto dovrebbe essere una relazione di servizio e gli agenti di scorta sono preoccupato per la sicurezza di mia moglie e temo in particolare per la presenza in Roma di Gaetano Scotto uomo d'onore della famiglia mafiosa della Renella che ha costituito una decina a Roma perfettamente sì mi ricordo sto particolare anche perché poi la scorta ha fatto una relazione per quanto riguardava questo episodio mi saltava questo episodio perché tornando loro dal carcere o quando sono venuti o quando se ne sono andati è successa questa cosa a mia moglie che io ero a Re Bibbia nella sezione collaboratore senta chi è Scotto ce lo può dire Gaetano Scotto lo conosco da quando sono stato affiliato a Cosa Nostra conosco a lui conosco a suo fratello che non è Cosa Nostra poi non lo so se è diventato comunque non mi ricordo se mi è stato presentato con lui invece ero in buoni rapporti siamo stati pure in carcere insieme a Lucciardone molto intimo con con i Galatolo con la famiglia Madonia un personaggio diciamo stimato in Cosa Nostra di azione ci fu un periodo che avevano dato la 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 decina a Roma parlo prima della mia collaborazione può spiegare cosa significa una decina a Roma una decina a Roma è come Stefano Bontade un periodo l'aveva creata Pippo Calò che si stacca una decina della famiglia di Suttana e creano un tipo un gruppo di una decina che veniva comandata da un soggetto di cui lui era Gaetano Scotto la decina è una sorta di articolazione della famiglia un gruppo facendo parte della famiglia viene trasferita in un altro posto e crea lì e questo è il concetto esatto e Scotto secondo le sue dichiarazioni a Roma cosa faceva? era capo di Cina ma anche a Milano vedete la stessa cosa a Milano i fidanzati avevano la decina anni 70 loro facevano parte della famiglia non mi ricordo se di Bolognetta quello che della Renella e avevano fatto anche una decina a Milano anni 70 Gaetano fidanzati a Firenze c'era Salvatore Cosenza che aveva fatto c'era diversi decine sparse per l'Italia senta ma la decina quindi essenzialmente significa che non è una famiglia autonoma quindi continua a dipendere dal Resuttana questo si continua a dipendere è il mandamento che crea e mette il personaggio nel luogo dove interessa col consenso anche di tutti e quindi questa decina a Roma cosa faceva per se lei ne ha conoscenza chiaramente e che periodo si occupava sempre per interesse di cosa nostra si occupava anche di livelli estorsioni agganci politici agganci servizi segreti tutto quello che è uno c'è un motivo per quando quando si fa una decina c'è sempre un motivo e in questo caso lei lo sa qual era il motivo per cui venne fatta questa decina di cui ne ho parlato magari ci si potevano essere interessi a livello di di gioca perché lo scotto era abbastanza valido nel traffico dei stupepacenti poteva essere era un come se una cosa di transito si fa una decina si mettono le radici ci sono gli alloggi c'è tutto insomma un'organizzazione transitoria che può servire a cosa nostra anche a livello di agganci agganci anche con altri personaggi c'è sempre questo motivo senta in che anni siamo? ma siamo anni fine novanta questo fine degli anni novanta o fine anni novanta anche primi anni anni novanta in questo periodo sento che c'è questa decina quindi lei quando ha detto fine anni novanta intende cioè poi ha detto primi anni no fine anni ottanta scusi scusi quindi come poi ha detto primi anni novanta quindi intendeva dire fine anni ottanta primi anni novanta e primi anni novanta scusate lei ha conosciuto lo fortevito lo fortevito l'ho conosciuto personalmente era non era stato affiliato a cosa nostra per motivi familiari però come noi avevamo per dire a mondello Giovanni Cosimano che non era cosa nostra però funzionava come cosa nostra aveva fatto anche omicidi con me Giovanni Cosimano quindi di cui ne ho parlato Vito Loforte era un buon un buon uomo era una persona molto valida si occupava sia del carcio scommesso si occupava del spaccio di droga era intimo con i Galatolo e anche con i fidanzati era intimo con Gaetano Scotto insomma era di là dell'Arenella Acquasanta io insomma ci sono incontrato tante volte e poi quando ha collaborato eravamo un po' tutti preoccupati perché le cose le sapeva senta quando Loforte comincia a collaborare lei ha sentito all'interno di Cosa Nostra delle reazioni eh sì eravamo tutti preoccupati anche parlando con Pino Galatolo si cercava insomma di sapere poi abbiamo saputo siamo si siamo organizzati insomma era una persona Aspetti un passo indietro si cercava di sapere cosa? Di sapere dove era per ucciderlo eh perché aveva eh sapeva tante cose Eh che genere di cose le aveva detto? Cosa sapeva? Che rendeva necessario intervenire? Ma eh era stato amico di tutti era molto intimo con le famiglie eh dell'Acqua Santa Resultana Renella e quindi c'era all'inizio la preoccupazione che potesse fare danno lei lei sempre nel verbale che ho detto a pagina 90 eh lei parla di Loforte sapeva fatti questo glielo dice Pino Galatolo che Loforte sapeva fatti delicati e andava ammazzato sì 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 ma delicati in quale ambito? Ma in delicati perché lui è come presa visione è stato presente in tanti tante volte l'ho visto al eh assieme con Gaetano Scotto eh nel passato a Vicolo Pepitone eh ci fu un periodo eh che lui era pure presente con Armando Bonanno eh dove Armando Bonanno faceva la latitanza eh veniva a trovare Armando Bonanno una volta c'era pure Cangeme Totuccio Cangeme Pepuccio Lucchese insomma lui era una persona che curava anche la latitanza penso che curava perché l'ho visto diverse volte lì eh dove c'era Armando Bonanno ho capito senta ma eh scotto che le le risultano diciamo così posizioni di scotto relativamente alla collaborazione di Loforte posizione reazioni di scotto relativamente alla collaborazione di Loforte eh sì ma tutti abbiamo avuto una reazione ma anche Gaetano scotto era preoccupato perché era molto intimo avevano loro se non erro i rapporti anche di di paccio di stupe paciente queste cose di qua e allora io le dico questo che pagina 89 sempre lo stesso verbale mi aveva detto Pino Galatro sempre è il soggetto che il Gaetano scotto aveva saputo attraverso uomini delle istituzioni che non mi ricordo se parlava del servizio centrale comunque istituzioni aveva saputo dove era sotto programma nella località protetta e Loforte perché lui aveva molto interesse per uccidere Vito Loforte confermo sì sì quindi questa cosa a lei risultava che era questo progetto e si ricorda dove era se se lo ricordo chiaramente la chiedo scusa presidente il mio il mio orologio parte da solo che cosa vuoi che ti ricordi risponda pubblico mistero cosa vuole che che gli ricordi questa tecnologia ci sta uccidendo un momento di prego chiedo scusa ci voleva un'interruzione quindi stava dicendo signor Onorato le stavo chiedendo se lei era a conoscenza se lo ricordo chiaramente di dove fosse effettivamente questa località protetta in cui era Loforte sì in quel periodo si era saputo dove era Loforte non mi sembra se era Viterbo se era non mi ricordo in questo momento comunque si era saputo e si era pure organizzato per andare a cercare Loforte e Pino Galatolo mi disse che avevano saputo perché essendo Gaetano Scott una persona molto valida nel sapere che gli agganci che aveva a livello anche a livello istituzionale che era resaputo in Cosa Nostra avevano saputo dalle fonte sicure dove si trovava Loforte Senta una cosa che volevo dire tornando un passo indietro a questo fatto della decina lei diceva pure che era importante per eventuali rapporti con le istituzioni eccetera eccetera nel momento in cui questi rapporti fossero stati presi secondo le regole di Cosa Nostra Gaetano Scott ne doveva riferire a chi? Ma Gaetano Scott era un portacqua principalmente alla famiglia di Resultana di Nino Madonia era una persona di fiducia di Nino Madonia Perfetto Senta lei aveva le avevano le hanno mai affidato l'incarico di fare di effettuare un omicidio insieme allo scotto Ma c'è fu un momento che si doveva strangolare un rapinatore un certo se non ricordo male Corona come si chiamava questo non mi ricordo che giocava era un calciatore che giocava poi aveva fatto delle rapine cose insomma che si era dato l'appuntamento per strangolarlo poi invece ha fatto buca e poi sono andati poi sono andati a sparare davanti al bar all'arenella perfetto però scusi non si è capito bene quindi non ho capito e questo appuntamento finalizzato a strangolare questo tale Corona o comunque questo signore ci siete andati lei c'era intanto eravamo presente lì nel terreno di dove c'era Armando Borano latitante all'arenella siccome è questa domanda eravamo presente io scotto mandò Bonanno quindi c'era scotto Gaetano anche con lei in quella circostanza lei ha detto è andato buca che vuol dire non si è presentato lo dovevano portare per strangolarlo invece questo non si è presentato infatti poi ci sono andati a sparare ma io non ho partecipato ho capito e sa c'era scotto quando sono andati a sparare lei lo sa? scotto ha partecipato all'appuntamento poi successivamente sono andati a sparare qualche giorno dopo che io non c'ero non mi ricordo se c'era pure scotto oppure me l'aveva detto che c'era insomma sono discorsi di tanti anni fa quello che può dire lei è che scotto era con lei e gli episodi sono stati così tanti che magari posso un po' confondere però aveva un ruolo aveva avuto un ruolo anche di partecipare all'astrangolamento sì che vi aveva il ruolo cioè l'incarico che vi era stato dato da chi? dai Madonia dai Madonia Senta sempre per rimanere su scotto le risulta che al di là di Roma scotto avesse rapporti anche con la piazza di Milano? sì lui era molto intimo con i fidanzati con i bono con i martello e avevano il traffico della droga insieme con questi personaggi e anche c'era pure il vidocalatolo Senta lei ha mai sentito parlare dei fratelli di Natale? Sì fratelli di Natale che avevano gli appalti dentro i cantini navali che erano vicini a Bagarella sì erano vicini a chi? non ho sentito bene mi devo scusare erano vicini ai Bagarella si occupavano degli appalti su questo aspetto li conosco avevano rapporti con persone del mandamento del Resultana? sì sì con i Madonia con i Galatolo prendevano gli appalti dentro i cantini navali assieme con i Galatolo con i Madonia perfetto senti i Galatolo avevano rapporti con forze di polizia i Galatolo sì avevano rapporti con con il loro erano i padroni della caserma che c'era all'Acqua Santa dei Carabinieri i padroni nel senso che facevano tutto quello che volevano si figuri che una volta io ho fatto una casa abusiva in via Montalbo e mi è venuto a chiamare Enzo Galatolo rappresentante della famiglia dicendo mi aveva chiamato il maresciallo dell'Acqua Santa della caserma dicendoci che aveva avuto diverse telefonate che io stavo facendo costruendo una casa abusiva e quindi di sbrigarmi mi ha fatto sapere di sbrigarmi Enzo Galatolo perché c'è il maresciallo che riceve diverse telefonate per questa casa abusiva che stavo costruendo in via Montalbo e poi in diverse occasioni siamo stati io presente a Barcarello dove che il Contrata diverse volte si è incontrato con Saro Riccobono dove presente c'era pure Enzo Galatolo all'epoca c'era pure Nino Madonia all'epoca c'era pure Salvatore Lopiccolo Caetano Carollo Barcarello Sperracavallo che io ero ero il ragazzino che andavo a prendere il caffè parlo del 1980 ma già ero cosa nostra Senta i Galatolo avevano una sede diciamo dove si vedevano molto spesso un posto dove si vedevano spesso Poi diverse volte sono sono stato a Vicolo Pepitone dove i Galatolo facevano riunioni si incontravano a parte le riunioni si incontravano con personaggi anche dell'istituzione personaggi Gaetano Scotto era sempre di casa c'era dove si facevano anche c'era una persiana dove si strangolavano anche persone lì in Vicolo Pepitone e diverse volte ho visto anche un certo aiello successivamente poi ho saputo che si chiamava Iello ma l'ho riconosciuto perché io diverse volte l'ho incontrato lì al Vicolo Pepitone non so se sono state due tre quattro volte quello che era molto amico anche di Gaetano Scotto amico perché addirittura questo faccia da mostro dove si chiamava lo chiamavano perché aveva un po' il viso spregiato tante volte l'ho visto anche con la moto un L di Davidson il proprietario di Gaetano Scotto che veniva al Vicolo Pepitone e io sono stato lì così per andare a incontrare qualcuno dei Galatolo per motivi di Cosa Nostra ma questo Aiello che cos'era era una persona di Cosa Nostra uno della polizia se ce lo vuole dire no era uno della polizia che era molto intimo sia con Gaetano Scotto che anche con i Galatolo Penzo Galatolo Pino Galatolo diciamo che gli mancava c'era addirittura che mi sto ricordando che dice che ci mancava solo la punciuta che discudeva discudeva meglio e certeggiava meglio di un uomo d'onore senta una cosa le volevo chiedere lei ebbe mai modo di parlare con Piazza di eventuali sue visite a Vicolo Pipitone no mi sembra di no non mi ricordo dottore se che con Piazza abbiamo parlato tante di cose però non mi ricordo le volevo chiedere un'altra cosa lei ha mai avuto notizie relativamente a una concessionaria di autovetture e altro ricco bono che si trova sempre nella zona di San Lorenzo aspetta un attimo glielo dico forse avete i cantieri non mi ricordo se avete i cantieri dove è la pagina non lo trovo ecco eccola qua sì è in via dei Nebrodi esattamente ricco bono e concessionaria no non mi ricordo dottore allora io le leggo quello che lei ha detto pagina 79 sempre dell'11 luglio del 2017 e allora lei ha detto se questo che dico io che abitava la figlia che si chiamava Loredana e una figlia che si chiamava Katia è una persona per bene non so sì era amico di Galatolo e di Madonia questo lei disse allora sì 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 perché questo ricco bono che aveva le macchine che aveva pure in via dei cantieri non solo in via Nebrodi era molto intimo con Enzo Galatolo sì non credo che qua su questo nient'altro senta relativamente all'attentata alla Daura lei ebbe mai modo di parlare con suo fratello cioè suo fratello aveva conoscenze relativamente suo fratello Domenico aveva conoscenze relativamente a ciò che era avvenuto alla Daura ma ci fu una volta che mi mi ha beccato lì alla Daura con mio fratello e voleva sapere cosa facevo lì io stavo facendo per l'ustrazione per quanto riguarda questo progetto del fallito attentato e ci fu una volta che incontrai mio fratello sì suo fratello non è cosa non era cosa nostra no 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 ma aveva amicizia con Angelo Galatolo sì erano molto intimi uscevano insieme Angelo Galatolo è figlio di Pino però è anche con il figlio di Enzo ma di più con il figlio di Pino di quello che ha partecipato anche all'attentato ecco suo fratello ebbe mai modo di sapere della partecipazione di Angelo Galatolo al fallito attentato mio fratello mi disse che l'avevano avvisato di non passare se non erro in quel periodo di non passare dalla scogliera dalla daura se non erro solo per chiedere pubblico ministero non ho capito della partecipazione al fallito attentato di Angelo Galatolo di Angelo Galatolo figlio di Pino perché si chiamano sono tantissimi o di Pino Galatolo chi è che ha partecipato al fallito attentato signor onorato Angelo Galatolo figlio di Pino o Pino Galatolo figlio di Pino figlio di Pino ah il figlio di Pino sì quindi l'amico di suo fratello diciamo sì sì va bene perfetto senta nel verbale dell'11 novembre del 97 lei ha detto che Angelo Galatolo figlio di Giuseppe aveva confidato a mio fratello Domenico del suo contributo a questa attività e stiamo parlando proprio del fallito attentato alla daura sì 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 se lo ricordo sì gli aveva detto di non passare insomma si arteggiava un pochettino con mio fratello perché camminavano insieme e quindi gli dava delle confidenze e poi mio fratello me l'ha detto a me ci ha detto ma lascia lo sbatto non mi ricordo la reazione mia qual è stata sì non credo di avere altre domande senta come Cosa Nostra voi avevate rapporti con la Calabria che lei sappia se noi avevamo il referente in Calabria in Puglia in Campania sia con l'Antranchita sia con la Sagra Corona Unita che sia con la Camorra che poi non è che la chiamavamo Sagra Corona o Unchanchita noi sempre Cosa Nostra era perché queste persone che facevano parte di Cosa Nostra non è che le chiamavamo Unchanchita perché a noi in Antranchita non ci interessava e neanche ci interessava la Camorra e neanche ci interessava sempre Cosa Nostra erano erano referenti in queste regioni avevamo dei referenti che erano combinati erano Cosa Nostra quindi erano persone che erano state combinate in Cosa Nostra che però erano contemporaneamente anche appartenenti ad altre associazioni criminali sì di Stefano in Calabria poi successivamente i Mancuso che hanno preso il posto di Paolo Di Stefano dopo la morte di Paolo Di Stefano e Piro Malli e poi basta e per la Calabria uff la Campania è la Campania che io ci sono stato diverse volte con anche con l'alditanza di alcuni soggetti di Cosa Nostra c'erano i Bardellino i Nuvoletta i Zazza che erano Cosa Nostra ci venivano a trovare anche a Palermo sì io non ho tutto sì passo al mio collega ci sono alcune domande per precisare quanto è già emerso dalle precedenti dichiarazioni signor Onorato a parte quello che le disse Piazza e che ha già riferito ma nel contesto di Cosa Nostra cioè con altri esponenti di Cosa Nostra lei ha mai parlato dell'omicidio Agostino cosa sa dell'omicidio Agostino ma io per quanto riguarda l'omicidio Agostino io ho parlato sempre a livello confidenza con certi uomini d'onore che l'omicidio Agostino non ho partecipato e neanche so che l'ha fatto però in Cosa Nostra si parlava di questo omicidio che era stato fatto da Nino Madonia perché noi di Cosa Nostra capiamo da dove viene non lo so perché non ho partecipato e neanche me l'hanno detto però in Cosa Nostra io non mi ricordo con chi ho parlato di questo omicidio che era fatto da sicuro anche perché in quel periodo e per come è stato fatto e per come è stato chiuso il discorso si parlava di Nino Madonia però ripeto è una un'interpretazione di uno di Cosa Nostra che capisce come funziona Cosa Nostra e come funzionava in quel momento senta ma a parte l'individuazione di chi è stato il responsabile ma lei ha mai saputo il motivo per cui questo agente di polizia Agostino è stato eliminato e io quello che sempre per quanto mi riguarda il mio ruolo dato che si era in quel periodo ero pure addentrato con Salvatore Biondino e cose sempre per lo stesso motivo della ricerca dei latitanti e perché si mettevano in contrasto con Cosa Nostra non sa precisare da chi ha avuto queste informazioni no non non mi ricordo se abbiamo parlato con qualcuno ho parlato in Cosa Nostra con diversi uomini d'onore per quanto riguardava questo omicidio però sempre a livello superficiale non è che era una cosa che ho partecipato o mi ha detto Salvatore Biondino questo l'ha fatto no non ho capito senta prima ha fatto riferimento un fugace riferimento devo dire a questo Genova ma vuole precisare chi è questo Genova cosa sa sul suo conto ma questo Genova era uno che era alla ricerca dei latitanti per quanto riguardava aveva lo stesso ruolo di Manole Piazza che cercava latitanti e via di seguito io personalmente non ho partecipato a questa scomparsa però ne avevo sentito parlare dico lei non l'ha conosciuto questo Genova quindi non sa che attività svolgesse quello che faceva dove cercava latitanti in che zona aveva un'attività di pompieri lavorava per quanto servizio dei pompieri e in che zona svolgeva questa attività di ricerca latitanti se lo ricorda ma sempre nella zona del territorio di Salvatore Biondino senta ma oltre a questo Genova e a piazza di cui ha parlato lei ha notizia di altre persone sapendocele indicare che svolgevano in quel periodo questa attività di ricerca dei latitanti non mi ricordo tutto senta tornando a scotto lei ha detto per quanto sentito che sapeva che era un trafficante di superfacenti è corretto? sì e che aveva rapporti in questo ambito confidanzati e buono e martello sì ricorda altri esponenti di Cosa Nostra con cui scotto diciamo aveva rapporti per questi traffici di superfacenti c'era pure lui aveva uno che era molto intimo con lui con lo stesso Vitolo Forte con i Galatolo con i Madonia diciamo che usavano anche il porticciolo dell'Acqua Santa per questi traffici senta prima ha detto che era diciamo noto in Cosa Nostra che lo scotto avessi rapporti con esponenti delle istituzioni ho appuntato questa frase perché l'ha detta lei vuole precisare questa affermazione c'è chi erano questi esponenti delle istituzioni e di a chi ha saputo queste informazioni ma era risaputo in Cosa Nostra che lo scotto aveva dei buoni rapporti a livello istituzionale io mi ricordo che quando sono stato latitante che mi comunicò Salvatore Biondino Salvatore Biondino mi comunicò di pomeriggio stasera di non andare a casa perché c'erano i 24 mandati di cattura per tutta la cupola di Cosa Nostra di cui io ero nei 24 mandati di cattura per l'omicidio Lima e mi ricordo che mi avvisò che aveva saputo attraverso i Madonia i Galatolo i Catano Scotto aveva saputo questa già che c'erano firmati i 24 mandati di cattura io non ho dormito quella sera a casa alle 4 di mattina è venuta la DIA a cercarmi ho capito senta non so se questo l'ha detto non lo ricordo però glielo richiedo per sicurezza ma Scotto faceva parte di Cosa Nostra in quale famiglia? Famiglia della Renella Chi era nell'epoca di cui stiamo parlando cioè fine anni 80 inizia anni 90 al vertice della famiglia della Renella lei lo ricorda? Al vertice negli anni 80 lui era soldato e il rappresentante era un certo lo Cicero rappresentante che questi avevano l'impresa dentro il cimitero dei Rotoli che si occupavano dell'impresa e delle sapolture e cose e poi c'era un sottocapo un certo Tarantino Nino Gaetano Scotto era poi diventato successivamente anche reggente della famiglia di della Renella ma parlo all'origine che sto parlando del 1980 già lui era Cosa Nostra quando io sono entrato in Cosa Nostra successivamente poi è diventato lui reggente perché si era un po' rotta la famiglia e avevano fatto la reggenza e avevano fatto allo scotto come reggente assieme con un certo Pegna una persona all'epoca anziana di 80 anni parlo io di 30 anni fa Vicenzo Vengia che sempre prima era stato anche rappresentante poi c'era Nino Tarantino questa reggenza di scotto a cui hai fatto riferimento in quale periodo lo collochiamo quali sono gli anni siamo dopo l'87 87-88 Senta lei ha notizia di periodi di latitanza di scotto Gaetano periodo di latitanza lui era stato arrestato nell'85 86 non mi ricordo se è l'87 poi è stato latitante ma non mi ricordo il preciso il periodo e non sa i luoghi in cui è stato latitante eventualmente latitante lui un po' è stato a Milano un po' a Milano e un po' io lo sapevo ma non mi ricordo dottore ma mi sembra che anche a Milano è passato un po' di latitanza con i fidanzati quindi lei collega la latitanza ai fidanzati di scotto ai fidanzati mi sembra giusto? Sì con Stefano Stefano Fidanzate Gaetano Fidanzate Nino Portafoglio si diciamo Nino Portafoglio che era Nino Fidanzate i fratelli Fidanzate Senti invece tornando a questo che lei ha chiamato Aiello ma questa definizione questa indicazione che lei ha fatto di faccia da mostro faccia di mostro non lo so era una sua diciamo descrizione oppure era un modo con cui veniva chiamato questo personaggio No lo chiamavano così perché aveva tutto il viso spregiato lo chiamavano io non avevo buoni rapporti l'ho visto così un paio di volte tre volte quattro volte non mi ricordo quanto che erano buoni rapporti con 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 scotto con i Madonia assieme con Galato l'ho visto lì ma poi neanche sapevo se non erro neanche sapevo come si chiamava sapevo che era poliziotto che era amico dei Galatolo che veniva a trovare Galatolo poi l'ho visto assieme con scotto in qualche occasione con la moto di scotto che aveva nel Demons nero un giorno l'ho visto pure lì con la moto questo lì intende dove? sempre Vicolo Pepitone Vicolo Pepitone alla Renella Vicolo Pepitone gironzolava in questa zona senta sa indicare il periodo gli anni in cui lei ha visto questo agliello a Vicolo Pepitone lo ha incontrato da quelle parti lo ha visto con la moto di scotto per come ma io parlo dall'ottanta set ottantotto periodo novanta in questo periodo senta sempre a proposito di questo agliello lei ha detto che gli mancava solo la punciuta mi sembra mi è sembrato di aver sentito cioè questo cosa significa? Che attività faceva tanto da questo agliello tanto da sembrare quasi uno interno a cosa fosse un poliziotto che era un poliziotto e c'era chi diceva che ci mancava solo la punciuta che ne capiva di più di quelle che erano cosa nostra nel senso che lo vantavano che era una persona molto fidata che serviva a tutti cioè serviva a tutti nel senso fidata forniva informazioni svolgeva attività per conto di cosa nostra un poliziotto che certamente uno che si sapeva che era poliziotto aveva pure la fiducia di venire lì al vicolo pepitone per errar era lì vuol dire che poteva stare lì e che aveva le confidenze che era di fiducia senta ma oltre a questo faccia da mostro poliziotto che lei ha visto a vicolo pipitone a vicolo pipitone ha mai visto altri poliziotti esponenti delle istituzioni uomini degli apparati dello Stato io posso anche confondere però contrada 100% a Barcarello Sperracavallo assieme con Riccobono non ricordo male se c'era pure fra cui quelle che ho elencate però mi sembra che c'era pure Salvatore Inserillo all'epoca che ancora era vivo Nino Porcelli Salvatore Lopiccolo ripeto io ero il ragazzino avevo 19-20 anni era quello che andava a prendere il caffè e successivamente non ricordo male se non ricordo male l'ho visto pure a Vicolo Pipitone perché a Vicolo Pipitone io mi sembra se non ricordo male l'ho visto pure Contrada perché aveva ed era in buoni rapporti con la famiglia di mia moglie con i Graziano che avevano regalato un appartamento in via Cimbali che loro mio socio avevano costruito qualche 300 appartamenti all'epoca e gli avevano regalato un appartamento di cui lui ne soffluiva che si portava una donna il Conrada in questo appartamento forse era l'amante non so insomma ma lì lui aveva assieme in questo palazzo in via Cimbali numero 7 aveva questo appartamento che si era regalato ma nello stesso piano non so se mi ricordo ora se nello stesso piano ma nello stesso stabile abitava Vincenzo Galatolo che poi successivamente ha venduto la casa Pino Galatolo Vito Galatolo e se non ricordo male anche Raffaele Galatolo i quattro fratelli Galatolo nello stesso palazzo ci abitava Salvatore Lauricella rappresentante successivamente consigliere della famiglia dell'Acqua Santa nello stesso palazzo ci abitava Salvatore Cosenza rappresentante della famiglia dell'Acqua Santa poi scomparso successivamente il 30 novembre 82 assieme con gli altri diciamo che lui abitava nel palazzo di dove c'erano tutti ho capito e Salorico Bono abitava pure là dottore presidente e dottore Salorico Bono abitava sia lì che in via Don Orione faceva una volta che era il periodo che era latitante era latitante stiamo parlando 78 79 ritornando invece a quanto Salorico Bono aveva pure la macelleria giù in questo palazzo che non aveva la macelleria che ci stava lui aveva il macellaio lì ma era suo alla macelleria diciamo che Contrada abitava lì io di questo ne ho parlato vent'anni fa sì 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 certo infatti io lo ricordo hanno fatto il processo Contrada sì io la mia domanda la mia domanda era specifica per quanto riguarda l'eventuale presenza di Contrada in vicolo Pipitone e a questo punto le faccio un'altra domanda sempre su questo punto lei ha mai visto insieme Contrada questo poliziotto faccia da mostro no 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 separatamente sì ma insieme no va bene signor Onorato vuole riferire sinteticamente alla Corte i motivi della sua collaborazione e se ricorda se in alcuni giudizi in alcuni processi che lei ha subito le è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione sì io ho collaborato nel 96 mi sono autoaccusato di tutti gli omicidi che ho avuto ho preso l'articolo 8 25 anni che faccio processi non ho mai preso una denuncia per calunnia oppure per falsa testimonianza e sono stato definitivo in tutti i miei le mie condanne e le mie dichiarazioni di cui ho fatto anche dalla Cassazione richiedeva il pubblico ministero anche diciamo in maniera sintetica le ragioni per cui nel 96 ha iniziato a collaborare per coscienza non mi rivedevo più in questa cosa nostra per questo motivo ma lei nel momento in cui ha iniziato a collaborare qual era la sua posizione giuridica scusi pubblico ministero mi aggancio alla sua domanda io ho collaborato e mi hanno arrestato per l'omicidio Lima come mandante assieme alla cupola tutta la commissione Reina Provenzano Calò Brusca e tutti insomma eravamo in 24 ma come mandante perché i collaboratori di giustizia Mutolo Cangeme Marchese il cognato di Bagarella mi accusavano che io ero reggente della famiglia di Mondello per volere di Salvatore Reina Salvatore Pippo Gambino insomma Salvatore Biondino mi arrestano per l'omicidio Lima come mandante dopo vado in Cassazione e mi tolgono l'omicidio Lima come mandante e rimango solo per associazione e quindi quando io collaboro ero imputato per associazione mafiosa successivamente poi mentre che collaboravo mi accusavano dell'omicidio Badalamenti a Carini assieme il Gance Anselmo i collaboratori mi accusavano di questo omicidio ma io avevo collaborato che ero solo per l'associazione quindi poi ho collaborato mi sono accusato come esecutore dell'omicidio di Salvatore e anche ho messo a conoscenza i magistrati di altri omicidi di cui io avevo partecipato quindi non ho capito lei per l'omicidio Lima è stato condannato o no? Io per l'omicidio di Lima sono stato condannato prima prosciolto dalla Cassazione archiviato come mandante rimango solo con l'associazione poi quindi lei quando dice che la Cassazione come esecutore forse intende parlare della misura cautelare non lo so mi faccia capire cioè la sua misura cautelare era stata annullata per l'omicidio Lima come mandante ed era stata confermata solo per associazione esatto lei inizia a collaborare e nonostante questo invece rivela di essere l'autore materiale dell'omicidio Lima è così? E vengo condannato non abbiamo altre domande grazie Presidente posso prima dell'esame delle altre parti posso chiedere 5 minuti di sospensione 5 minuti di sospensione e allora riprendiamo l'udienza non vedo il riservato ora ora le parti manca l'avvocato Scozza ma sarà fuori immagino l'avvocato Scozza per il resto correggetemi se sbaglio mi pare che siete tutti presenti che non si sia allontanato nessuno quindi siamo tutti qua si è allontanata l'avvocato la dolcetta che era sostituto processuale dell'avvocato Ferraro mi pare e quindi ne diamo atto ma comunque di una parte civile sostituto dell'avvocato Ferraro il collegamento collegamento con Tolmezzo Tolmezzo ci vedete e ci sentite sempre grazie poi per quanto riguarda il sito remoto dove c'è il collaboratore il signor onorato ci vedete ci sentite onorato è sempre al suo posto manca l'avvocato Scozza eccolo eccolo qua l'avvocato Scozza è qui anche il difensore dell'onorato è presente e quindi possiamo procedere possiamo proseguire le parti civili avvocato Repicio comunque le parti civili chi vuole cominciare prego comincio io presidente sarò certamente più sintetico signor onorato il madonia scusatemi lo dico ditolo sempre al microfono avvocato Modica sì avvocato Modica per la parte civile per una delle parti civili il madonia in cosa nostra aveva diciamo potere di autonomia cioè poteva decidere senza render conto a Riina o alla commissione degli atti omicidiari no no doveva rendere conto anche a Riina le persone a lui più vicine perché loro avevano creato una fratellanza fra Riina Pippo Gambino Salvatore Biondino Ciccio Madonia Raffaele Ganci questi erano quelli che il branco che sapeva tutto di tutti lei se ho ben compreso ha commesso degli atti delittuosi insieme a Nino Madonia sì abbiamo fatto sì e qualcuno lo può ricordare ma allo strangolamento dei fratelli pedone poi abbiamo fatto altri omicidi insieme estorsione abbiamo avuto insomma tante cose in comune senta e le modalità attuative diciamo di questi atti delittuosi li concordavate o li decideva in autonomia il Madonia no no erano tutti concordati con atti capimandamento ma lui in autonomia poteva pure fare però non di livello c'è che significa che poteva decidere la morte di un rapenatore di una persona comune ma quando si tratta di persone di una certa importanza che possono cambiare le leggi se ne parlava sempre in commissione oppure fra quelle persone che io ho elencato poco fa quindi vediamo se ho capito bene il Madonia aveva un potere diciamo così in autonomia ma fino a un certo punto cioè se non si non si discuteva o gli atti non erano diretti a personaggi di una certa caratura sì ok senta faccia da mostro come il rei lo ha e non solo lei lo ha definito faceva parte del gruppo di fuoco di Totorrina no non lo so non lo so so solo quello che ho detto ma che caratteristiche aveva questo gruppo di fuoco intanto esisteva un gruppo di fuoco cioè quali erano i soggetti e le caratteristiche anche soggetti che non facevano parte di Cosa Nostra facevano invece parte del gruppo di fuoco di Riina lo puoi illustrare alla Corte il gruppo di fuoco era sempre un gruppo dove si prendevano sempre i migliori delle varie famiglie e si creava un gruppo di fuoco quindi dovevano comunque far parte di Cosa Nostra parte di Cosa Nostra sì però ripeto poi ci sono pure c'è l'eccezione io nel mio gruppo di fuoco che ho commesso l'omicidio lì ma ho inserito mia personale senza dire niente a nessuno avevo inserito anche una persona che non era neanche Cosa Nostra Giovanni Cusimano che ha avuto un ruolo dopo l'omicidio che io ho consegnato le armi e lui le ha tagliate con il flessibile dentro un il fabbro non era Cosa Nostra ma era di fiducia mia personale e lei di questa decisione ha informato prima o dopo diciamo i vertici di Cosa Nostra di cui lei stesso peraltro faceva parte Sì sì ho informato Salvatore Biondino ma senza che Giovanni Cusimano sapesse che c'è Salvatore Biondino lui era solo una cosa mia Sì ma queste informazioni le le diede prima o dopo il fatto commesso diciamo l'omicidio Prima io ho detto di aspettarmi il giorno stesso il giorno prima No prima al Biondino lei della presenza del Cusimano lo informo prima o dopo l'omicidio Lima Prima Prima Ed è capitato che il Badonia in sua presenza ovviamente in qualche riunione della commissione sia comportato come lei cioè abbia dato contezza di un fatto omicidiario o altro fatto delittuoso da lui commesso da solo insieme ad altri con soggetti che non facevano parte di Cosa Nostra se lo ricorda Sì lui lui ha inserito diverse volte personaggi anche che non erano Cosa Nostra io mi ricordo Benedetto Marciante che lui se lo portava in diverse occasioni dietro anche ad accompagnarlo in commissione per il delitto però che non era lui Cosa Nostra però se lo portava anche in posti delicati mi ricordo Marco Favaloro che prima di essere Cosa Nostra era presente anche in diverse riunioni importante poi in questo momento non mi ricordo altre cose però succede Mi scusi Avvocato forse è onorato la domanda era leggermente diversa la domanda dell'Avvocato cioè la domanda era va bene succedeva che si portava anche Madonia personaggi non appartenenti di Madonia stiamo parlando no Avvocato la domanda era è successo lei intanto a queste riunioni della commissione partecipava onorato no io non partecipavo ma portavo la persona cioè Saro Riccobono a Salvatore Biondino però non partecipavo ho capito portava la persona che poi partecipava alla riunione la domanda era lei sa e a conoscenza se poi e sia successo che qualche volta nel corso della commissione quindi alla presenza degli altri il Madonia abbia comunicato di aver effettuato o di voler effettuare qualcosa qualche atto micidiario qualche atto delittuoso con soggetti non appartenenti a Cosa Nostra era questa la domanda mi pare no Avvocato? sì perfettamente quindi sì ma non in Cosa Nostra ci sono ci sono i personaggi come Madonia Reina Brusca il padre Brusca no Giovanni Pippo Gambino anche io avevo qualche persona riservata che di mia personalità cioè c'erano tanti uomini d'onore riservati che non che non si conoscevano nessuno e c'erano pure tante persone che neanche erano Cosa Nostra che non erano combinati ma erano riservati a Madonia anche ad altre persone che li usavano anche in determinate situazioni molto gravi ma erano cose personale magari se la sbrigava lui di un omicidio e magari si portava pure persone che non erano Cosa Nostra perché era una cosa sua che se la organizzava sua sapevano Cosa Nostra che lui doveva fare questa cosa e poi c'erano persone riservate che nessuno conosceva che neanche erano Cosa Nostra Va bene chiaro Ok Lei con Scotto Gaetano ha mai commesso atti delittuosi? No per quanto riguarda atti delittuosi no c'era solo quel tentato stangolamento che poi non si è fatto siamo stati in diversi situazioni di estorsione insieme magari altre cose ma no ovviamente quando io le faccio la domanda per atti delittuosi non intendo soltanto omicidi quindi siccome lei ha detto atti delittuosi va bene il fatto dello strangolamento lo aveva detto poco fa poi ha detto siamo stati assieme anche in estorsioni anche le estorsioni sono atti delittuosi l'avvocato non intendeva dire solo se ha fatto altri omicidi sì 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 quindi ha fatto estorsioni Coscotto ha fatto altri atti sì estorsione ho dato soldi per quanto riguarda cose che dovevo dare perché ci aspettavano dei soldi insomma tutte queste cose di qua e sui rapporti che Coscotto aveva diciamo con le forze di pulizia o con i servizi e o con i servizi segreti lei lo ha preso da lui da altri lui se ne vantava come cosa sai Gaetano Gaetano Tanino come lo chiamavamo noi Tanino Scotto era un molto anche come Galatolo come Vincenzo Galatolo si vantavano di queste amicizie che loro creavano aveva questo carisma di creare queste amicizie anche particolari quindi se ne vantava in pubblico anche con lei in pubblico intendo dire tra di voi in pubblico se ne vantava sempre all'interno di Cosa Nostra in questo senso intendevo si confidenza per confidenza sai com'è in Cosa Nostra com'era confidenza per confidenza e rapporti di intime c'era queste cose di qua ha fatto dei nomi poc'anzi li vuole ribadire cioè i nomi che le sono stati riferiti da Scotto a proposito di questi rapporti con forze di pulizia e servizi segreti se li ricorda si mi ricordo quei particolari di cui poco fa ne ho parlato di quando io poi la sera non ho dormito con presa visione con lui assieme con questo faccio di mostro assieme con il marasciallo dell'acquasante lui aveva pure i buoni rapporti all'epoca non mi ricordo come si chiama lui aveva pure i buoni rapporti con un certo pace che era non mi ricordo se era colonnello oppure era un sempre dei carabiniere che poi faceva servizio al caserma di partanna mondello di cui era pure amico di amico lo usava sarò riccobono va bene la ringrazio presidente per il momento ho finito grazie tre domande delle altre parti civili avvocato repici penso che non ce ne sono altri vero prima no avvocato repici grazie presidente avvocato repici buongiorno signor onorato una prima cosa il luogo nel quale Armando Bonanno trascorse un periodo di latitanza dove lei vide anche Gaetano Scotto lei sa chi era il proprietario di quel sito di quel terreno sì perché era un terreno dove si costruiva pure dei cavalli c'era un cavallo sì poi ne è arrivato un altro dove si facevano delle riunioni pure con persone della commissione certe volte venivano i Graviano certe volte veniva Pepuccio Lucchiese che ancora non era stato arrestato parlo 87 80 e lei sa chi era il proprietario Armando Bonanno cioè il terreno era di ci abitava Armando Bonanno che si faceva l'altitanza ma era una proprietà che aveva messa a disposizione dello Scotto di Gaetano Scotto di Pietro Scotto i fratelli Scotto ah quindi erano stati i fratelli Scotto a mettere a disposizione il terreno ad Armando Bonanno beh sì è corretto sì sì e senta lei ha mai saputo nulla della morte di Armando Bonanno io la morte di Armando Bonanno dovevo essere anche lì a partecipare poi successivamente mi comunicò se non erro assieme a Salvatore Biondino mi comunicò se non erro c'era pure Mimmo Ganci che era stato già tutto a posto che l'avevano già strangolato e quindi perché mi aveva detto che lo dovevamo strangolare da un giorno all'altro e mi aveva messo lì di andarci più spesso da Armando Bonanno e verificare tutte le persone che andavano a trovarlo voleva sapere chi veniva a trovarlo e chi non veniva a trovarlo tutte le volte che ero lì venivano tutte quelle che venivano a trovarlo sia i Cangemi sia i Ganci sia i Lucchese sia i Graviano insomma tutti quei lo scotto Gaetano Scotto i Vegna i Galato tutto quello che venivano lì io segnalavo a Salvatore Biondino di cui poi lui ne prendeva atto più o meno in che epoca venne ucciso Armando Bonanno estate 87 bene siamo a settembre ottombre 87 perché mi ricordo benissimo bene e senta perché ero uscito io ero uscito io dal carcere agosto mi ha mi ha mi ha mi ha mi ha fatto mi ha dato un appuntamento Armando Bonanno che mi ha fatto trovare una bottiglia di champagne e lì ho trovato tutte le persone insomma che abbiamo bevuto questa bottiglia insieme perché ero uscito io dopo tre anni dall'84 all'87 e lì insomma c'era pure Gaetano no mi sembra che Gaetano Scotto ancora non c'era non mi ricordo e qui in quel periodo lì successivamente poi è stato strangolato sì lei conosce ha mai appreso i motivi per i quali Armando Bonanno fu ucciso? Armando Bonanno è stato ucciso perché si diceva si diceva in Cosa Nostra che si stavano organizzando contro Salvatore Biondino Pippo Gambino Totò Reina contro di loro sia lui che il Puccio quello che era stato ammazzato al Lucciardone ma nel suo carcere avevano tutto un collegamento nel suo ricordo chi fu ucciso prima? Bonanno o Puccio a Lucciardone? ma non mi ricordo se è stato ucciso prima Puccio ma comunque avevano tutto un collegamento queste cose Bonanno Puccio Carollo Presti Filippo tutte queste avevano tutto un collegamento e lei che era stato incaricato dello strangolamento sa per quale motivo fu ucciso Corona? Corona era molto intimo con alcuni personaggi di questi però loro portavano il fatto dell'uccisione di Corona era stato che l'accusavano che aveva fatto delle rapine anche alla stazione al Banco d'Italia non so non mi ricordo in questo momento senza essere autorizzato ma ancora di più per il fatto che aveva avuto un contrasto un contrasto con Salvo Madonia dentro il carcere per questioni di calcio di pallone perché lui Corona era un calciatore giocava calcio in promozione se non ricordo male aveva avuto un contrasto a livello calcistico con Salvo Madonia e io l'ho fatto pagare ho saputo successivamente sì ma a lei quindi risultava che che Corona fosse legato al giro di Puccio Bonanno a quelli lì no più che altro se non ricordo male per il fatto delle rapine e poi c'era pure questo fatto che aveva avuto il suo contesto con Salvo Madonia allora avevo capito male a me era sembrato che lei avesse detto che Corona avesse rapporti con quelle persone che erano state uccise perché si erano messe contro il gruppo lei ha indicato Madonia Gambino eccetera no ma fu in quel periodo ma può essere pure no 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 io non le ho chiesto un ipotesi signor per carità può essere pure che quella è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il basso perché lui aveva avuto contrasti con Salvo Madonia e già glielo avevano sistemata sta cosa dentro il carcere però Salvo Madonia non era una che Salvo Madonia e i fratelli Madonia lasciavano convinto la stessa scuola di Toto Reina all'uomo d'onore o anche alla persona che ha avuto il contesto lasciavano convinto che l'avevi convinto e te ne andavi convinto va bene però scusi mi pare di aver capito avevano lasciavano convinto il loro diciamo contendente del fatto che era tutto a posto e poi invece l'ammazzavano agivano sì era questo va bene sì te lascio convinto che mi hai convinto però va bene d'accordo va bene onorato il concetto è chiaro grazie senta lei conosce il motivo dell'omicidio di Agostino Marino Mannoia Agostino Marino Mannoia c'è sempre diciamo il fatto che non lo so il motivo però si diceva che era il fatto che si erano messi anche assieme faceva parte pure di questa situazione che si erano opposti ho capito ora senta Armando Bonanno aveva un ruolo all'interno della della famiglia Armando Bonanno quando è stato strangolato funzionava come capomandamento infatti tutti andavano era lui il referente dei Madonia perché Madonia fu in quel momento erano tutti in carcere avevano e c'era solo Nicola Tapane ecco di Tapane Tapane che veniva pure a trovarlo ad Armando Bonanno ma quello che c'era Ciccio Tapane pure il papà di Nicola sì le volevo chiedere lui funzionava come mandamento aveva preso il posto di Nino Madonia in quel momento quindi in quel momento era reggente Armando Bonanno e ucciso Armando Bonanno chi prese il suo posto ucciso Armando Bonanno il suo posto lo prese Ciccio di Trapane Ciccio di Trapane Francesco di Trapane Francesco di Trapane aveva rapporti di parentela con i Madonia sì era una parentesi e senta ma aveva diciamo competenza territoriale per Cosa Nostra anche in altro territorio di Trapane sì e quale sì mi sembra che se non erro lui aveva il territorio di Cinisi ecco e a lei risulta se nella zona di Cinisi di Trapane e Madonia avevano una base proprio una un'abitazione un appoggio sì avevano un una villa una villa che poi questa villa era intestata ai Graziano ai parenti di mia moglie se non erro se non ricordo male e sa dove si trovava? no no non ci sono mai andato io perché poi successivamente non ci sono andato e nel territorio di Carini di Trapane aveva un qualche ruolo una qualche capacità di influenza? sì era era il mandamento lui abbracciava pure la parte di di Cinisi Terrasini Carini ho capito e senta una in realtà l'ha già detto volevo una precisazione i mandamenti di Resuttana e di San Lorenzo alla fine degli anni Ottanta in che modo regolavano fra di loro i rapporti erano in buoni rapporti ma stiamo parlando fine anni Ottanta sì Ottantanove ah sì 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 San Lorenzo e Resultana erano due mandamenti diversi San Lorenzo arrivava fino a Carini Isola delle Femmine Partanna Mondello e San Lorenzo mentre Resuttana aveva Acquasanta e Renella sì e questi sono i territori le dinamiche fra i due mandamenti fra i vertici dei due mandamenti quali erano? erano in buoni rapporti in rapporti intimi tutta una cosa erano loro che comandavano Cosa Nossa Resuttana San Lorenzo e Corleone quindi i tre mandamenti più potenti quindi Resuttana San Lorenzo era diciamo il gruppo di comando di Palermo alleato a Riina è corretto? sì sì questi tre erano quelli che comandavano Cosa Nossa assieme con la Noce anche la Noce era alleata fortemente con loro il pugnato di Pippo Gambino Raffaele Canci senta signor onorato l'avvocato l'ho detto ma insomma glielo facciamo ripetere l'avvocato le ha chiesto i rapporti tra i vertici del mandamento di San Lorenzo e di Resuttana siccome ha fatto riferimento a un periodo preciso diciamo intorno agli anni all'89 esattamente i vertici di questi due mandamenti che quindi erano in così stretti rapporti rispettivamente di San Lorenzo e di Resuttana quali erano? erano tutta una cosa sì e chi erano questi vertici se lo vuole ripetere? erano Pippo Gambino e Ciccio Madonia che poi li si istituivano Nino Madonia e Salvatore Biondino esatto quindi di fatto poi gli operativi erano da un lato Salvatore Biondino e dall'altro lato Nino Madonia giusto? Nino Madonia sì 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 avvocato bene signor onorato lei ha mai conosciuto o sentito parlare di un tale Rosario Naimo Rosario Naimo sì l'ho sentito l'ho sentito Rosario Naimo ma in questo momento non non ricordo in quale occasione va bene senta a proposito di San Giuseppe Iato lei ha mai sentito parlare di un tale santo sottile? no no va bene andiamo a Gaetano Scotto l'attività di traffico di stupefacenti nella quale era coinvolto insieme lei ha detto ai fidanzati a Bono era limitata al territorio nazionale? no no non c'era limite nel senso lei ha notizia se questa attività avesse diciamo dimensioni internazionali e avesse sponde in altre in altre nazioni? sì loro avevano avevano i collegamenti in umadonia con con la Colombia con Escobar con Kobachim con Gabriele Palestino ci hanno sequestrato le navi con migliaia di chili di grezzo di cocaina armi diciamo che erano fortemente organizzate lei ha mai sentito parlare di un tale Caruana? Caruana sì Caruana erano pure cosa nostra di dove? non mi ricordo non mi ricordo di quale provincia mi sembra l'agricento non mi ricordo comunque ma operavano in Italia o all'estero? prevalentemente operavano all'estero operavano all'estero erano in buoni rapporti con i Madonia e con i Galatolo e loro e loro ci arrivavano le le barche che poi andavano fuori porto avevano i scafi lì all'acquasanta di Giovanni che i padroni si chiamavano i di Giovanni all'acquasanta e ci arrivavano le barche con i stupefacenti cocaina il grezzo le arme insomma avevano questi agganci e loro parlo come Galato lo Scotto Madonia e via di seguito ecco e quindi questa era la mia domanda di precisazione quindi Gaetano Scotto era in questo circuito di narcotraffico? sì 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 senta ma Scotto aveva anche una attività diciamo non oltre alle attività criminali che svolgeva aveva qualche altra attività? lui come persona era imprenditore edile costruiva la renella gli avevano bloccato un edificio di non mi ricordo se erano 20 30 appartamenti per tanti anni è stato bloccato questo palazzo e lei sa dove si trova si trovava questo immobile? sì ci sono andato spesse volte a trovare lui mentre che lo stava facendo ma era abusivo era un po' abusivo aveva problemi con quelli a fianco si lamentava lui insomma e dove si trovava esattamente? alla renella girando verso come se uno vuole andare a mare un 300 400 metri prima sulla sinistra c'era questo palazzo sequestrato perché poi avevano bloccato i lavori aveva avuto un sacco di problemi quindi lei seppe anche che c'erano stati dei problemi amministrativi e un sequestro sì perché io gli dicevo Tanino ma che stavi facendo stai facendo un grattacielo non hai neanche legibilità ci mancava tutto infatti poi l'hanno bloccato e questo diciamo blocco della costruzione di Scotto più o meno in che anno si verifica se se lo ricorda ma siamo già nell'83 84 sì sa se lui provò in qualche modo a interessarsi per superare questi problemi della sospensione dei lavori lui mi diceva che risolveva il problema poi io parlando con lei cioè non ricordo non mi sono più interessato non ci sono più andato lì perché poi sono stato arrestato sono uscito dopo tre anni insomma e lui aveva ancora questo problema però lui diceva che stava riuscendo a risolverlo e le disse le disse se aveva chiesto aiuto a qualcuno e nel caso a chi no no lui mi aveva detto che risolveva il problema però altre cose non mi ricordo avvocato va bene senta lei ha mai conosciuto una tale Rosalia Cusimano una tale Rosalia Cusimano mi sembra che questa Rosalia Cusimano era forse se non erro perché sono tempi lontano era una donna che aveva a che fare con Gaetano Scotto non mi ricordo se era o parente o amante ma comunque aveva a che fare con la collego con lui perché avevano lui aveva comprato un ristorante alla Daura a Scogliera Vecine Maria non mi ricordo se c'era la gestione di comunque era una una persona che la collego a Gaetano Scotto con i ruoli di cui ho detto sì e questo diciamo esercizio questo locale di cui parla nella zona della Daura lei ne sentì parlare ai tempi dell'attentato al dottor Falcone alla Daura e siamo siamo in quel periodo siamo in quel periodo ho capito senta lei sa se Vito Loforte conosceva questa Rosalia Cusimano mi sembra di sì 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 può essere pure che io l'ho sentito parlare a lui perché il discorso è che è della Renella un discorso che nasce fra Scotto e Vitolo Forte perciò comunque la collego alla Renella a questa a questa Cusimano ma quindi lei aveva rapporti personali con Vitolo Forte sì io con Vitolo Forte lo vediamo sempre spesso quindi va bene e quindi diciamo avevate un dialogo avevate relazioni confidenziali sì 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 e senta lei ha conosciuto solo Gaetano Scotto o anche qualche suo parente ma io ho conosciuto che veniva lì in questo terreno suo fratello Pietro poi mi sembra che c'aveva un altro fratello più piccolo qualche guggino e a proposito si è avvocato sì ha ragione no 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 perché ha detto in questo terreno lei quando dice in questo terreno che ha conosciuto anche parenti di Gaetano Scotto a quale terreno si riferisce signor un terreno dove che faceva la latitanza Bonanno quindi quel terreno diciamo che era della famiglia Scotto nel quale stava facendo la latitanza Bonanno è giusto? sì sì avvocato sì e questo Pietro Scotto lei sa che attività svolgeva? sì all'epoca non mi ricordo se lui già faceva parte dei servizi questi telefonici cose che lavorava per un'impresa e ma questa attività di Pietro Scotto diciamo era utilizzata dal fratello? no no questo non glielo so dire dottore è avvocato lei un tale Vincenzo Brusca lo ha mai conosciuto? no no senta lei ha mai avuto notizia di una macelleria riconducibile a qualcuno dei Galatolo? sì la macelleria era il mio Rogero Marturana Marturana attraverso di via a Miraglio Rizzo che era il titolare era Pino Galatolo sì ma la gestiva un certo la Barbera Barbera non mi ricordo e Pino Galatolo la frequentava oltre a essere nel sì 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 la frequentava io spesse volte andavo a trovare Pino Galatolo in questa macelleria in via in via Pino Galatolo in questa macelleria o si si incontrava da lui oppure se c'era un po' magari di movimento si lo incontrava da Gammicchia Gomme a Pino Galatolo ai suoi fratelli o da Scatassa dipende ho capito senta andiamo a Emanuele Piazza proprio al momento appena prima del del suo omicidio vi fece dei nomi anzi le fece perché dice che si era rivolto proprio a lei no? sì sì dicendo De Gennaro sa sì dice non lo fare perché De Gennaro sa dice lo sanno tutti che mi dovevo vedere con te lei ha fatto poi il nome di un tale Speranza che lui se era in buono il rapporto con questo Speranza di Gennaro sì ma Emanuele Piazza le parlò mai di un tale De Sena? no non mi ricordo bene ora lei ha riferito anche delle conversazioni avute con Emanuele Piazza a proposito prima dell'omicidio a proposito dei suoi rapporti con esponenti della polizia e ha fatto appunto quei nomi e anche quello di Contrada la cosa che volevo capire io è queste conversazioni nelle quali Emanuele Piazza le riferì di avere rapporti sia con De Gennaro sia con Contrada riesce a dire se sono avvenute prima o dopo l'omicidio del poliziotto Agostino ma siamo in quel periodo siamo in in quel periodo e i discorsi che Emanuele Piazza le fece su Agostino le ha detto ha usato pure diciamo espressioni non non positive sul poliziotto Agostino sì positive perché non era in buone forse non gli faceva favore insomma non era tanto ecco e questo discorso rispetto all'omicidio del poliziotto quanto tempo dopo avviene? ma siamo nel periodo poco prima qualche mese prima non lo so che siamo e che succede poi il fatto suo quindi qualche mese prima dell'omicidio Piazza sì sì va bene e Emanuele Piazza le parlò mai del dottor Antinoro? Antinoro sta sì questo non mi ricordo se me ne parlò comunque non mi è nuovo e allora facciamo le faccio un'altra domanda lei ha detto che Emanuele Piazza conosceva tutti al commissariato San Lorenzo sì ecco a me interessa sapere il periodo cioè negli ultimi tempi della vita di Emanuele Piazza o anche in qualche anno precedente no parliamo di qualche sei mesi sei mesi prima sei mesi prima della sua morte sì sì perché lui quando mi comunica il fatto può essere pure magari tre mesi prima comunque un po' più indietro mi comunica che mi avevano pedinato che lui ha sistemato e insomma stiamo parlando di un po' prima e poi succede che mi chiede questa questa cortesia questa collaborazione con me se riusciamo a prendere la di tante queste cose sì un po' prima non è in grado però di riferire con certezza se piazza le fece il nome di questo antinoro no no antinoro non mi ricordo dottor a proposito lei ha riferito su domanda di tale Vernengo lei ha conosciuto esponenti della famiglia Vernengo di persona sì io conoscevo a lui Petro Vernengo a Cosimo Vernengo e parenti pure Pietro Vernengo aveva fratelli chi ricorda i nomi o il nome io non so quanti siano non ho capito allora io l'ho chiesto se lei sa se Pietro Vernengo avesse fratelli ho usato il plurale ma io a dire la verità in questo momento non sono in grado di dire sì sì ma mi ricordo che io conoscevo un altro fratello perché a lui non lo chiamavamo Vernengo lo chiamavamo Pietro Petro Tissone ho capito e avevo un fratello sì e il fratello ricorda come si chiamava? no perché io frequentavo più a lui aveva il figlio Cosimo il fratello era sempre diciamo gravitava nell'ambiente di Cosa Nostra? sì sì tutti il fratello anche il figlio senta sa se ha mai saputo i rapporti di parentela fra Francesco Marino Mannoia e Vernengo? no non non mi ricordo se va bene il nome Giuseppe Vernengo lei lo ha mai sentito? sì Giuseppe Vernengo e chi era rispetto a Pietro Vernengo Giuseppe Vernengo? il fratello mi sembra perché non mi ricordo se si chiamava Giuseppe o Peppino comunque io conoscevo tutti e due fratelli ma più avevo a che fare con Pietro Tissone sarebbe Pietro Vernengo anche con Cosimo Vernengo ho capito sì ma dico la domanda dell'avvocato è adesso che l'avvocato ha detto il nome Giuseppe o Pino come dice lei Vernengo è possibile che sia questo che lei dice essere il fratello di Pietro Vernengo? sì 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 mi ricordo che il fratello si chiamava Giuseppe ora perché non mi ricordavo più perché c'è il nome dopo 40 anni 30 anni ho conosciuto 5.000 persone di Cosa Nostra quindi diciamo anche perché non erano nel nostro territorio erano nel territorio di Santa Maria di Gesù va bene era questa la sua domanda no avvocato sì 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 proprio prego grazie signor onorato a proposito di quel locale riconducibile a quella signora Rosalia Cusimano lei ricorda il nome? no no ricordo questa signora Cusimano che la scogliera mi sembra il ristorante lei dice del ristorante? guardi lei di questa cosa ha già parlato quindi io procedo a lettura delle dichiarazioni che lei ha già reso innanzi alla corte d'assise di Caltanissetta il 28 aprile del 2015 la pagina 262 della trascrizione lei dice Rosalia Cusimano in questo posto in questo stabilimento chiamato La Marsa? sì 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 ma di chi era lo stabilimento? il stabilimento era di un certo lucido e lui era il pagione diciamo Tarnino Scotto nello stabilimento nello stabilimento La Marsa perché Tarnino Scotto da ragazzino ha fatto anche il bagnino in questo stabilimento quando era ragazzo e io era ancora più piccolo e poi successivamente bazzicavamo pure tutti lo stabilimento La Marsa che faceva poi io addirittura prendevo due tre gabbine l'anno e mi dava pure cinque milioni l'anno ogni estate lucido che era il pagione era un certo lucido sì e questi soldi che lucido usciva questo è il rapporto che c'era anche fra me e Gaetano Scotto li dava Gaetano Scotto perché noi quando ci abbiamo fatto il danno per mettersi a posto lui è andato da Cucuzza Salvatore e da Gaetano Scotto non mi ricordo se c'era pure Tarantino comunque il discorso l'aggiustano quelle dell'Aranella e poi ogni anno quando apriva mi dava tre bungalow a noi della famiglia di Mondello perché fa parte di noi e ci dava pure cinque milioni che poi bungalow li dava io alla moglie di Gasper Remutolo uno glielo dava alla moglie di Giovanni Cosimano e alle moglie dei carcerati perché se ci dava un bungalow andavano a fare il bagno insomma le tessere queste cose senta Salvatore Biondino con Salvatore Biondino lei parlò mai dell'attentato al dottor Falcone e delle voci circolanti in ordine all'attentato al dottor Falcone dell'attentato? sì l'attentato alla D'Aura intendo certo che ne parlavo l'abbiamo fatto insieme sì io le dicevo se Biondino le disse qualche cosa a proposito delle voci che circolavano o che dovevano circolare sul sul tentativo di uccidere Falcone alla D'Aura sì mi ricordo che mi aveva detto di girare la voce che questa cosa se l'aveva messa lui insomma che era che non era una cosa che c'entrava niente cosa nostra una mossa fatta da dottor Falcone se non ricordo male mi diceva queste cose insomma lei ne ha parlato o meglio lei prima aveva riferito di un progetto di un'idea di compiere un attentato a Orlando sì e lei ha detto io gli dissi che non era proprio il caso se non ho capito male giusto? no io ho saputo che Tottor Reina voleva Orlando lo voleva morto sì perché parlava contro Andreotti parlava contro i politici che all'epoca erano a braccetto con Cosa Nossa e quindi il suo fatto che Orlando accusava Andreotti a Lima queste che in quel periodo erano persone che facevano parte del nostro sistema per la struttura di Cosa Nossa Reina insomma lo voleva fare fuori ora questo discorso che riguarda Orlando rispetto all'attentato alla D'Aura è vicino lontano come tempo no prima mi sembra che prima se non erro stiamo parlando parliamo forse la comunque la prima volta che Orlando diventa sindaco presidente signor Onorato lei ne ha già parlato di questa vicenda sempre alla Corte d'Assise di Caltanissette il 28 aprile del 2015 pagina 307 e 308 lei dichiarò leggo per intero perché altrimenti non si capisce a proposito della della volontà di Riina che voleva morto a Orlando e la commissione ha detto di no lei dice perché attaccava sempre Andreotti 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 lo attaccava sempre e Riina lo voleva ammazzare ci fu un periodo che ci sono andato dietro poi siccome Orlando poi era voluto bene dalla città di Palermo dall'opinione pubblica e si accantonò questa cosa proprio perché se no si ribellava l'opinione pubblica e a noi ci preoccupava più l'opinione pubblica che le istituzioni quando scende l'opinione pubblica in piazza è finita deve agire lo Stato il presidente le chiede e quando fu questa intenzione di Salvatore Riina di far uccidere Orlando la sua risposta è parlò e stiamo parlando nel periodo della bomba della D'Aura del fallito attentato presidente quindi in quello stesso periodo in cui venne progettato l'attentato teste onorato in quel periodo che Orlando attaccava pure Falcone che si era messo la bomba sì esatto si attaccava pure sì e quindi lei conferma quanto quanto al periodo in cui lei apprese della volontà di Riina di uccidere Orlando cioè di un periodo molto vicino all'attentato alla D'Aura sì in quel periodo avvocato stiamo parlando sempre di questi periodi della D'Aura un po' prima un po' dopo forse anche un po' dopo signor onorato perché lei in quella dichiarazione se non ho capito male avvocato mi corregga se ho capito male lei dice anche perché Orlando parlava di Falcone che si era fatto lui l'attentato qualcosa di questo genere quindi probabilmente già l'attentato era da poco il fallito attentato era da poco avvenuto in base all'attentato sì ma anche prima se ne parlava prima dell'attentato di Orlando quindi era un progetto che era nato anche prima comunque in quel periodo sì una voce che si diceva in Cosa Nostra se c'era insomma sto ballottaggio un pochettino sì sì ma questo è chiaro dico comunque in quel periodo nel periodo dell'attentato all'Aura sì sì va bene ora andando a quello che le dice Salvatore Biondino che bisognava mettere in circolo la voce che l'attentato al dottore Falcone se l'era fatto lui da solo le spiegò qual era la ragione? Per discreditare Falcone anche a livello anche a livello politicamente diciamo a livello di di fare diventare Falcone un bugiardo insomma questo era l'obiettivo le faccio una domanda diretta ma era anche per depistare? Per depistare sì sia per depistare che sempre in Cosa Nostra c'era sta usanza sempre di fare capire agli uomini d'onore che non c'entrava niente Cosa Nostra e anche per depistare per screditare farlo diventare non credibile quello che diceva Falcone ho capito senta lei prima ha detto pure io che ero l'esecutore materiale dell'omicidio Lima avevo messo in giro voci false sull'omicidio Lima in famiglia anche in famiglia bene in famiglia di Cosa Nostra e lei che voce mise in famiglia? che dovevamo cercare che è stato perché Cosa Nostra non sa niente e quindi dobbiamo cercare servizi segreti russi bianchi insomma uno si inventa tutto quello che la stedda diciamo glielo chiedo glielo chiedo perché nella stessa udienza corte d'assise di Caltanissetta 28 aprile 2015 lei disse quando è stato l'omicidio Lima noi abbiamo detto che erano stati i servizi tedeschi i servizi segreti che si devono cercare chi è stato è questo il senso? sì 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 come sto dicendo adesso adesso questo ho detto senta e quando lei prima parlando di quello che le raccontava Salvatore Biondino a proposito quando parlavate dell'omicidio Agostino lei ha detto Biondino sviava sempre il senso è sempre lo stesso? sì per me sì il senso è sempre lo stesso perché c'era una regola in Cosa Nostra anche se io avevo fatto l'omicidio Lima con Biondino non significava niente che Biondino mi doveva dare la confidenza per dire poi magari me la dava di altre cose me la date non è che era sempre così però anche certe volte dipende con chi quella cosa l'ha fatta la chiudevano fra loro due loro tre quelli che erano e si chiudeva il discorso lì quindi non sempre non peccava certe volte peccava Biondino che mi dava alcune confidenze ma scusi io però confidenza per confidenza probabilmente mi è sfuggita qualcosa lei ha detto che quindi Biondino le ha parlato dell'omicidio Agostino e la sua interpretazione è che sviava cioè avrebbe detto per i motivi che ha detto così come era stato fatto con Salvo Lì con l'omicidio Lima eccetera è giusto? ma perché cosa le disse Biondino? che era una cosa che bisognava cercare che era stato perché non sì cioè la stessa cosa che poi fu detta per l'omicidio Lima la stessa cosa anche per le strage Falcone Borsellino sempre c'era questa voce ho capito e nessuno poteva chiedere nessuno poteva chiedere va bene quindi il discorso che le fece Salvatore Biondino era identico al discorso che fece lei sull'omicidio di Salvo Lima giusto? sì bene senta con Salvatore Biondino le capitò di parlare dell'arresto a maggio del 1989 di Salvatore Contorno già da anni collaboratori di giustizia in quel momento in quel periodo si diceva che Salvatore Contorno era alla Daura e se ne parlò proprio in quel periodo che c'era addirittura chi diceva che era accanto alla villa di Falcone che era di Alla Daura chi glielo diceva? Salvatore Biondino e le disse per quale motivo si trovava nella zona di Palermo Salvatore Contorno in quel momento? ma lui aveva detto a noi di sorvegliare quella zona dove gli avevano detto persone sempre dell'istituzione che c'era contorno alla Daura accanto alla villa di Falcone infatti in quel periodo ricordo bene che noi stavamo stavamo organizzando l'omicidio Germana a Mazzara del Vallo che poi ci sono andati i fratelli Graviano assieme con Bagarella e noi siamo rimasti lì perché ci avevano dato questa soffiata che c'era contorno alla Daura e quindi si diceva questo e che ci fa cosa ci fa lì contorno ma questo questo discorso con Biondino avvenne prima o dopo l'arresto di contorno prima prima perché poi successivamente venne arrestato contorno ma stiamo parlando sempre nel periodo lo stesso periodo che abbiamo fatto che c'è che c'è stato fallito attentato a Germana e alla Daura no a Germana o alla Daura chiedo scusa l'ho interrotta Germana Germana lei ricorda così collego questo fatto di contorno al perché ho fatto il fiorino abbiamo preso avevamo le chiavi di un fiorino per fare l'omicidio Germana poi questo fiorino l'abbiamo consegnato a quelli della famiglia di Marianagate che se lo sono venuti a prendere a Mondello che era il fiorino che stava per essere usato per Germana va bene su questo su questo ora le chiedo una precisazione con Salvatore Biondino le capitò di parlare delle lettere del Corvo così vennero chiamate sui giornali contro il dottor Falcone a proposito dell'attentato alla Daura o meglio prima dell'attentato alla Daura è relativa al contorno se non ne ha parlato niente va bene a proposito di Salvatore Biondino lei sa che collegamenti aveva con apparati istituzionali Salvatore Biondino sì non mi ricordo se abbiamo parlato di alcune cose certe volte comunque lui mi comunicava sempre di non dormire di stare attento una volta mi ha avvisato pure che gli avevano detto quelli dell'addia attraverso l'addia che c'erano a Valdesi erano messi sopra un edificio che stavano guardando se c'era salvo Madonia che era latitante mi dava sempre questa informazione senta a proposito di volo e le era stato chiesto prima se lei sapesse quale era il motivo per cui Biondino e Rina ne volevano la morte lei non ha saputo precisare se non ho capito male è corretto? sì non ho ricordi chiari per quanto riguarda volo perché se aveva comprato sta villa o stava per comprare sta villa a Mondello mi aveva detto che lo dovevamo acchiappare questo lo dobbiamo prendere lo dobbiamo affogare perché mi avevano fatto discorso di escemista discorso che era sbirro che era un pezzo di sbirro mi ricordo su questi particolari però specificamente me l'ho detto subito quando io ho collaborato a Caselli perché mi avevano detto se c'erano persone in pericolo di vita e io ho detto che questo volo era in pericolo di vita assieme con altri perché c'era un progetto di uccidere questo volo stiamo parlando però faccio un mente locale che erano sempre in base alla sbirritudine che erano sbirri che si cavano lati tanti che era SMI aveva a che fare con condorelli con queste cose di qua forse più che condorelli voleva dire con cutelli con cutelli no condorelli è quello del tornore appunto presidente leggo dal verbale del 28 gennaio 2014 reso alle procure di Reggio Calabria Catania e Caltanissetta a proposito delle ragioni dell'attentato da fare nei confronti di volo lei dice disse in quell'occasione quello che le aveva detto biondino mi spiegò che volo aveva fatto degli sgarbi aveva avuto a che dire con il noto estremista con cutelli quindi non era in rapporti con cutelli ma anzi la ragione era di un contrasto che c'era stato sgarbi lei dice che volo aveva fatto a con cutelli ricorda sì 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 se ho detto questo è così è più o meno quello scusi avvocato è più o meno quello che ha detto prima rapporti con con cutelli eccetera adesso però l'avvocato le sta precisando rapporti conflittuali cioè il volo avrebbe fatto un contrasto avrebbe avuto un contrasto con con cutelli è questo il concetto giusto? sì sì lo ricorda adesso? parlava di questo di questo motivo biondino vabbè senta che era sverro mi aveva detto pure che era sverro che era uno che era un crash tutte queste cose quindi per ucciderlo vuol dire che c'erano i motivi validi e lei e lei si adoperò per preparare l'uccisione di volo? sì io mi sono adoperato subito io ho dato l'appuntamento perché lui stava comprando sta villa e voleva fatto dei lavori poi appena gli ho detto ci vediamo qua e là non si è fatto più vedere ma e lei e lei proprio in quel periodo poi non fu eh allertato non fu coinvolto per un altro attentato? sì era un periodo che poi questa cosa fu accantonata perché io avevo sempre ehm impegnato sempre con Biondino e per questi motivi di cui ho parlato non mi ricordo per per che cosa fu che non abbiamo o mi sembra che lui ha capito non si è fatto non l'ha fatto più vedere non mi ricordo avvocato comunque siamo sempre in questo periodo eh eh lei fu mai incaricato in realtà sembrava averne fatto cenno prima eh di uccidere il poliziotto Germana sì eh sì sì siamo nello stesso periodo siamo quindi quindi la eh diciamo l'abbandono dell'attentato a volo è in contemporanea con l'incarico di uccidere Germana sì sì va bene eh senta un tale Salvatore Davi lei lo ha conosciuto? Salvatore Davi è un uomo d'onore della famiglia della mia famiglia di Partanna Mondello bene e che rapporti aveva con i Madonia in buoni rapporti e sa se per qualche periodo fu soggiornato fuori? Sì è stato avuto il soggiorno poi è stato arrestato eh perché Davi sono due c'è uno Salvatore Davi sì e l'altro Davi c'è l'altro della noce che era che era dalla famiglia all'epoca di Salvatore Scaione sì prima di essere capomandamento e quello che era in origine della famiglia di Partanna Mondello lei sa se fu al soggiorno obbligato fuori? sì è stato pure al soggiorno obbligato e ricorda in che zona? non mi ricordo dove però è stato al soggiorno obbligato poi è rientrato ricorda in che zona? no no non mi ricordo va bene lui era stato era in carcere per l'omicidio Cappiello del Marascello dei Carabineri non mi ricordo se era Carabineri sì le le ultime tre precisazioni lei ha mai conosciuto un tale Fulvio Garaio? no no a proposito del progetto di attentare alla vita di Vitolo Forte sotto protezione lei sa chi furono i soggetti che andarono nella località protetta per provare a uccidere Lo Forte? ma mi sembra che a parte Gaetano Scotto mi sembra se non erro si parti pure Salvatore Lo Piccolo senta ma questo discorso del tentativo di attentare alla vita di Vitolo Forte nella località protetta avendo avuto notizie riservate c'entra niente con la decina istituita a Roma sotto il controllo di Gaetano Scotto? Ma quello era un punto d'appoggio perché certamente la decina di Gaetano Scotto funzionava lì a Roma ed era pure un punto d'appoggio Nel senso questa decina si occupava di ricercare informazioni riservate? Ma no solo la decina tutto cosa nostra si interessava E Gaetano Scotto in particolare aveva modo di ottenere informazioni riservate? Ma il discorso che arriva da Gaetano Scotto io mi ricordo questa soffiata che aveva saputo se non ero attraverso il servizio oppure dei contatti che aveva lui Questa soffiata intende dire su dove stava su dove stava Loforte Vito dove abitava e dove era il Vito Loforte Sì Senta lei seppe mai se Loforte manifestò paura di subire ritorsioni per la sua collaborazione con la giustizia? Non mi ricordo A lei non è capitato di parlarne con Vitolo Forte? Io poi l'ho incontrato no non mi ricordo no non mi ricordo dottore avvocato Loforte non le diede mai notizia di avere timore di Gaetano Scotto Salvatore Lopiccolo e Pino Guastella che circolavano in giro per cercarlo? Sì ma non mi ricordo dove che mi ho preso conoscenza di questa di questa cosa Lei un tale Musacchia l'ha mai conosciuto? No Va bene Senta Musacchia Come? No no E Senta Ci sono Lei cominciò a collaborare nel 1996 ha detto se non ho capito male di aver confessato subito tutti i reati che lei aveva commesso Sì Ha avuto difficoltà nel parlare di collegamenti istituzionali di Cosa Nostra? Ma la difficoltà in primo tempo c'è sempre non è che uno come si dice così subito la difficoltà c'è sempre perché non sai in quale mondo va incontro poi man mano va pendendo fiducia una persona eh guardi le faccio le faccio la domanda diretta quando lei comincia a collaborare lei aveva già saputo che Vitolo Forte sotto protezione aveva subito un attentato e Gaetano Scotto aveva saputo qual era la località protetta in cui viveva Vitolo Forte esatto queste vicende inducevano ad avere timori rispetto a ritorzioni istituzionali ma certo non è che uno vedendo come girano le cose a me mi hanno informato di non dormire a casa e vengono la dia alle 4 di mattina e quello dice che lo forte si trova nella località segreta quello e questa cosa è normale che uno collabora sta con gli occhi aperti e ha pure un po' di temore va bene l'ultima precisazione che le chiedo signor onorato lei ha mai avuto notizia di un poligono di fatto un poligono di tiro nella località Bellolampo sopra Palermo un poligono a Bellolampo dove si andava a sparare non era un poligono ufficiale si si non non mi ricordo se ci sono andato mai perché diversi diverse famiglie avevano che andavano qui a sparare però io non ci sono mai andato un territorio di proprietà di un mafioso che si chiamava Di Maggio si ci sono stato anche a mangiare io da Di Maggio Calogero Di Maggio detto Caliddu Calid Di Maggio che poi è scomparso il 30 novembre che si va a Torretta di qua ma lei sa se quel 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 terreno era frequentato anche da esponenti della polizia no no va bene nessun'altra domanda presidente grazie grazie a lei avvocato la difesa signor onorato buongiorno sente io volevo iniziare il mio controesame da questa domanda lei nel corso dell'esame del pubblico ministero ha parlato di questo omicidio di fasone cioè dire del ragazzo che è stato ucciso del rapinatore che è stato ucciso dalla la barbera io volevo sapere questo anzitutto lei sa se qualcuno a quel punto ha chiesto che la barbera venisse ucciso e sa sì 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 mi ricordo che c'è stato qualche qualcuno che venisse ucciso invece i Madonia sono stati contro i Madonia non mi interessa se mi può dire chi è Madonia Nino Madonia Nino Madonia era contrario a questo fatto e Nino Madonia in quel periodo dove era? Latitante? Non mi ricordo se era Latitante se era Libero non mi ricordo non se lo ricordo riesce a collocare il periodo in cui si è verificato ciò? Ma stiamo parlando se non erro 84 85 sento in maniera più semplice il fatto si è verificato prima o dopo l'attentato il fallito attentato della Daura? Ma prima mi sembra se non erro prima sì ho capito un'altra cosa lei ha parlato di questi atti che sarebbero state che c'era una relazione di servizio nei confronti di sua moglie lei ha detto anzitutto che i familiari di sua moglie la volevano uccidere la volevano fare sorpoluso non ho capito bene che cosa comunque chiaramente erano in contrasto può dirci il periodo in cui si è verificato ciò? e quando mia moglie parla lei di quando mia moglie è venuta a trovare in carcere sì e parliamo nel 97 98 96 dopo la mia collaborazione e e sua moglie le ha detto che ha visto scotto mia moglie conosce personalmente scotto e che l'ha detto ma guarda non il fatto di vedere scotto non mi ricordo se mi ha detto che ha visto scotto però c'era un come si dice una conoscenza che a Roma c'era Gaetano scotto che avevano fatto la decina io sapevo e quindi sapeva che avevano fatto la decina ma lei o sua moglie sapevate che in quel momento Gaetano scotto era a Roma o era no io no perché collaboro e quindi non so più se Gaetano scotto non ho più eh confidenze di cosa nostra che se Gaetano scotto è ancora a Roma oppure se è andato da Roma o ancora esiste a questa decina parlo io che sono collaboratore ho capito e e sua moglie sapeva che se Gaetano scotto era a Roma in quel periodo no 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 sua moglie le disse espressamente era Gaetano scotto o è ma secondo me è una è una mia una mia come si dice un mio pensiero di di mestiere è una deduzione una mia deduzione di mestiere mi sembra che poi è stato segnalato se mi ha detto non mi ricordo comunque il fatto bene ma c'è stato qualcosa che ci ha fatto risalire a scotto ho capito senta per quanto riguarda invece questo attività che no scusi dato che abbiamo parlato della D'Aura io volevo chiederle lei all'inizio ha detto che tra l'altro è stato pure condannato per questo fallito attentato può riferire alla corte che è condotta ha tenuto in questo fallito attentato il mio ruolo il suo ruolo sì sì il mio ruolo è stato quello di illustrare la zona perché in quel periodo mi diceva che sia Nino Madonia che Salvatore Biondino che c'erano pure dei movimenti che scaricavano sigarette se c'era qualcuno nel territorio che facevano degli illeciti e quindi ho perlustrato per giorni il territorio e chi gli ha dato l'incarico Salvatore Biondino Nino Madonia ci incontravamo sia da Mariano Gioia che anche per per questi motivi ok si ricorda grossomodo quanto tempo prima rispetto al fallito attentato logicamente ma siamo lì siamo lì giorni prima messi prima giorni prima sì stiamo parlando di quel periodo e Galatolo sul punto di Galatolo per meglio dire qualcuno dei Galatolo ebbe a dirgli qualcosa in ordine a questo fatto io mi vedevo con Enzo Galatolo con Angelo Galatolo che anche loro hanno fatto parte di questo progetto e le hanno mai detto di non passare dal posto a me no a me non non mi ricordo se me l'ha detto forse qualcuno di Galatolo ma non sapeva che io facesse parte anche del del progetto perché poi Galatolo quando facevano una cosa la sapevano tutti la sapevano tutti i fratelli i nepoti i parenti e tutti perciò magari poteva succedere che mi vedeva uno che non che non sapeva e mi dicevano sai non passarete là perché per adesso deve succedere una cosa questi erano un po' diciamo i Galatolo per come anche per farsi capire che loro erano a certi livelli che facevano certe cose ma quindi scusse onorato però questo Galatolo o questi Galatolo che le hanno detto questo non sapevano che in realtà lei era coinvolto nel tentato nell'attentato no no non lo sapeva lo sapeva solo Angelo Galatolo che io ero coinvolto assieme a lui e anche Vincenzo Galatolo poi gli altri Galatolo non sapevano niente e lei quando questi le hanno detto non passare di là eccetera ha detto ma guardate che io centro pure oppure no 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 per nessun motivo va bene un'altra cosa in relazione a questo traffico di stupefacenti cui lei si riferisce ne ha parlato più volte mi interessa sapere questo il traffico era Madonia fidanzati Bono ed altri oppure vi era una vendita e acquisto tra i due gruppi no il scotto lavorava per i Galatolo in Madonia però aveva anche a che fare perché partiva dall'acqua santa partivano quintali di cocaina e andavano a finire Firenze Milano Napoli e quindi loro avevano che arrivavano pure le barche all'acqua santa dei Di Giovanni i Di Giovanni non sapevano niente di queste cose e quindi si smestivano sta sta cocaina anche a nord e quindi scusi attraverso continuo continuo si si attraverso questi personaggi che tutti sapevamo in Cosa Nostra quindi diciamo che i fidanzati secondo quanto lei sta riferendo farebbero parte erano dello stesso gruppo era un'unica società Madonia scotto fidanzati e gli altri no i fidanzati non erano in società con e i Madonia i fidanzati era fra i Madonia i fidanzati l'anello di congiunzione era Gaetano Scotto che portava ai fidanzati anche queste quantità di quindi Gaetano Scotto la vendeva anche ai fidanzati ai fidanzati sì questo è interessante non erano lo stesso gruppo anche io ho venduto un periodo dei fidanzati a Milano scusi per comprenderci ma è il traffico di cui ha parlato nel tempo il Lofortevito no non lo so non lo sa il Vito posso sapere quali sono le dichiarazioni di Lofortevito lei è mai stato detenuto con Lofortevito con detenuto sì sono stato con detenuto a Re Bibbia per un periodo mentre eravate entrambi i collaboratori sì lui però era sopra io ero sotto senta un'altra cosa che tempo è trascorso tra il fallito attentato Germana e il momento in cui voi avete consegnato o rubato e quindi consegnato il fiorino ai Graviano grosso modo quando abbiamo consegnato il fiorino è stato qualche 15 giorni prima ma noi Graviano alla famiglia di di Mazzara sono venuti gli uomini d'onore della famiglia di Marianagate ho capito e questo fiorino lo avete consegnato subito dopo che l'avevate rubato sì sì quindi diciamo non è che è stato rubato è stato preso perché noi avevamo le chiavi sì in che senso scusa non ho capito apparteneva a un terzo non ho scassinato noi avevamo le chiavi di ogni autovettura che ci serviva perché avevamo chi si dedicava ad avere le chiavi di tutti i tipi di macchine autovettura motore perché c'era chi lì ma sempre rubato era sì sì no beh certo a me questo è quello che interessava rubato o motore lei ha parlato che vedeva a scotto con un motore può dirci il il tipo di motore già l'ha detto non mi interessa può riferirci grosso modo il periodo in cui lo vedeva con questo motore ma questo motore l'aveva lui sia nei primi anni 80 comprato e se l'è tenuto per tanto tempo ero nelle Davinson se non ero nero di sua non so se poi era interessato a lui perché noi di Cosa Norsa non ci intestiamo mai niente e quindi lei con questo questo motore dopo il suo dopo la sua acquisizione della libertà nell'87 lo ha visto ancora sì parlo io 88 89 fino a 88 89 l'ha visto 89 90 in quel periodo in quel periodo sì ed è l'unico tipo di motore che con cui l'ha visto scotto no lui aveva avuto pure un'onda aveva avuto pure un io abbino questo motore al al fatto che anche il poliziotto camminava con il suo motore con quel tipo di motore dell' Davinson poliziotto lei intende quello con la faccia diciamo che lei ha detto freggiata butterata sì sì e poi ha detto che scotto oltre a questo Harley Davidson aveva pure questo tipo di motore aveva altri motori giusto ha detto un'onda sì c'è un periodo che aveva pure un'onda un Vespone queste cose di qua ho capito a proposito di questo aiello lei grossomodo lo ha visto ha detto sia pure per poche volte mi interessa sapere se in che periodo l'ha visto fino a quando il presidente ha già risposto a questa esatta domanda vediamo se poi prelude a qualcos'altro come è chiaro presidente va bene lo so che ha risposto già sul punto però lei onorato lo ha detto vediamo se può ribadire sì parlo 87 88 89 in quel periodo degli anni facciamo una domanda più specifica attentata all'Addaura dopo l'attentata all'Addaura lei l'ha visto e io parlo dopo l'attentata all'Addaura come? ma prima e dopo e io questo l'ho visto sia prima che dopo se mi dice il periodo preciso però siamo in quel no io non voglio il periodo preciso io voglio sapere grossomodo all'incirca dopo l'attentata all'Addaura è una risposta ma mi interessa ancora dopo molto tempo poco tempo mesi anni non lo so ecco parlo io periodo 89 90 88 in questo periodo sento una cosa ma lei è in grado di descrivere lasciamo perdere per un attimo il viso è in grado di descrivere questo soggetto io mi ricordo quando l'ho visto la prima volta era il vicolo pepitone che io faccio non mi ricordo se era Vito Galatolo o Angelo ma brutto è chiuso alla palermetana e mi avevano detto che era un poliziotto ho saputo che era un poliziotto che era amico di suo padre di Vincenzo Galatolo poi successivamente arriva è arrivato non mi ricordo sempre nello stesso occasione o se è stato magari dopo perché io diciamo che nei Galatoli dico tutti i giorni ma quasi ci andavo e ho visto che praticava un giorno l'ho visto con la moto di Caetano Scott un giorno l'ho visto da solo ed era questa persona abbastanza robusta con un bel paio di spalle e aveva su spregio in faccia questa faccia un po' spregiata che io poi l'ho riconosciuto quando l'ho visto nel che televisione e via di seguito quello che incontravo certe volte al vicolo perdone questo quindi dicevo però ancora la descrizione non me l'ha fatta è alto basso il colore dei capelli molto chiaro di carneggione colore dei capelli voglio dire sul rossigno metri settantacinque così settanta non è che ma rispetto rispetto a lei era molto più basso molto più alto lo stesso più basso più basso più basso ma molto poco eh no guardi se è molto poco io e quanto è alto lei mi interessava non era una bella donna da vedere se era alto o bello signor onorato lasci perdere la bella donna lasciamo perdere le battute cerchiamo di diciamo di rispondere la domanda che le stava facendo l'avvocato gliela faccio ora io lei quanto è alto signor onorato io 1,91 1,91 questo signore più basso di me questo signore era più basso di lei lei non sa dire lo ha già detto se molto poco era più basso giusto? no ma potrebbe essere un metro e settantacino non è che si distingueva tanto l'altezza più alto degli altri era la misura che poteva essere va bene va bene portava portava in quel periodo baffi barba no era sempre con un occhiale scuro tutte le volte quattro volte che l'ho visto avevo un occhiale scuro avevo un occhiale scuro la mia domanda è differente se portava barbi o baffi a voi si occhiale scuro è un po' grande non so se erano Raiban o comunque scusi signor onorato la mia domanda è differente portava barbi barba o baffi è un sì o un no? no no niente niente perfetto sento una cosa lei ha finito di dire sento né baffi non mi ricordo se portava baff barba la barba non me la ricordo baffi una persona che uno pratica è diverso di come uno pratica una persona se l'ho vista magari due minuti me ne sono andato o tre minuti me ne sono andato però mi ricordo me lo ricordo il particolare perché aveva un viso streggiato aveva questo taglio in faccia poi l'ho visto con la moto di Danino e poi si sapeva che era amico intimo di Vincenzo Galato scusi signor onorato vabbè questo l'ha detto mi scusi avvocato Scorsola una precisazione così almeno da parte della corte chiudiamo questo argomento ma lei quindi il nome di questo signore lo ha saputo subito dopo no dopo dopo però il fatto però scusi invece il fatto cioè senza invece il fatto che fosse un poliziotto questo signore lo ha saputo subito o dopo no l'ho saputo subito subito va bene andiamo avanti e le hanno pure detto dove prestava servizio in quel momento in quegli anni no 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 non mi ricordo ma ho saputo subito che era un poliziotto ha saputo solo che era un poliziotto ma non veniva solo lui veniva c'erano anche altri due poliziotti però se lei mi dice come si chiamano come non si chiamano c'erano altri due poliziotti che uno era della via Montalbo che veniva assieme a lui però se lei mi dice come si chiama come non si chiama non erano sette volte pure due poliziotti e anche tre poliziotti non tre che venivano tutti e tre assieme ma c'erano tre poliziotti che venivano che addirittura uno era parente parente di un operaio forse era un operaio un dipendente dei Galatolo che dentro i canteri navali lavorava però se lei mi dice perché non era il suo solo questo faccio di mosso che veniva lì ma c'erano diversi poliziotti che venivano anche il maresciallo pace oppure il maresciallo dell'acqua santa veniva a vicolo pepetone vabbè ora onorato ci dovevamo concentrare su questo signore che lei ha detto poi ha saputo quindi poi lei lo ha visto in televisione come? lei il viso le fattezze anche le sembianze del viso di questa persona le ha viste in televisione? quando poi l'ho visto in televisione mi sono reso conto che ha detto guarda chi è quello che veniva con la moto ma lei in televisione ha visto il soggetto o la foto? no ho visto la foto e il soggetto oppure era ripresa la persona oppure hanno trasmesso la foto questo mi interessa sapere no no la foto la foto la foto sento una cosa lei nel corso dell'interrogatorio cui più volte ha fatto riferimento la procura generale stamani e cioè a dire quello dell'11 luglio del 2017 ha chiaramente riconosciuto lasciamo perdere la foto di Aiello nella foto numero 20 anzi presente a tal proposito considerato che si tratta di un riconoscimento fotografico chiedo che il verbale fotografico e ora ne vedremo la rilevanza venga allegato venga acquisito al processo l'album fotografico mostrato nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio mi spiega le chiedo lei questa foto l'aveva visto a prescindere dalla televisione altre volte in altri album fotografici ma non lo so se l'ho vista in altri alberi fotografici perché veda lei sentito dalla procura della repubblica di Caltanissetta il 12 novembre del 2013 le viene mostrato un album fotografico e presente è stato depositato solo il riassuntivo e praticamente questo si dice l'ufficio mostra quindi ha onorato Francesco un album fotografico composto da numero 14 foto predisposto dal centro operativo Dio di Caltanissetta l'onorato presa in revisione dichiara nella foto numero 3 mi sembra di riconoscere tale Matteo soprannominato Jair e cose varie presente io non continuo perché mi diventa inutile da questo momento in poi perché nella foto numero 1 c'è il viso di Aiello mi spiega il motivo per il quale che è la stessa foto ed ecco perché chiedo l'acquisizione dell'album fotografico che viene mostrata nell'interrogatorio del luglio del 2017 mi spiega perché nel 2013 lei non lo riconosce e come mai lo riconosce nel 2017 Presidente Avvocato Repici c'è opposizione alla domanda e anche ad altre richieste che sono già state avanzate il difensore dell'imputato conosce sia il verbale della procura di Galtanissetta del 2013 sia quello della procura generale di Palermo del 2017 ha chiesto la produzione del verbale fotografico che non so esattamente cosa sarebbe poi ha detto album fotografico in realtà poiché non è un atto che è avvenuto alla presenza di questa Corte per valutare i termini e le modalità con le quali il signor onorato l'11 luglio del 2017 ha riconosciuto bisognerebbe allora rappresentare alla Corte delle iniziali perplessità avute del modo in cui si è sviluppato credo che l'avvocato abbia chiesto l'acquisizione infatti di tutto il verbale di riconoscimento oltre che dell'album fotografico tutto il verbale quindi di interrogatorio no 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 l'interrogatorio no io ho chiesto l'acquisizione dell'album fotografico con il verbale utilizzabile se vogliamo tutto utilizzabile solo esclusamente nella parte in cui c'è il riconoscimento ma quindi le dichiarazioni di onorato sulle foto sulle foto al riguardo di Aiello ah va bene sì 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 per carità cioè è della parte nella quale come dice lei avvocato Repici che la Corte ovviamente è della parte che come dice lei avvocato Repici inizia con una serie di perplessità e poi si risolve in un riconoscimento sì perché si ferma su una foto e poi c'è anche l'intervento del dottore Gozzo che mostra un'altra immagine va bene allora adesso quindi su questo avvocato l'acquisizione di questo interrogatorio nella parte relativa alla visione dell'album fotografico quindi alla fotografia 20 che è quella oggetto della questione alla fotografia 20 e nell'acquisizione dell'album c'è il consenso senza altro pubblico ministero è su aspetta è su questo di qua del del 13 del 2013 di Caltanissetta no presente chiaramente no quello l'aveva già chiesto lei spontaneamente ora poi eventualmente chiederemo all'onorato le ragioni sì lo so pare che ci sia un altro verbale nel quale invece pur mostrato il verbale un fascicolo del quale avrebbe fatto parte questa fotografia l'onorato non ha riconosciuto io non so se è necessaria l'acquisizione d'avvocato credo che lei come contestazione in qualche modo l'abbia già prospettata non credo che ci sia no presidente allora dico a me interessa dimostrare che sia la foto e questo credo che si possa fare anche chiedendolo all'onorato cioè lei sta contestando che lui non l'ha riconosciuta le altre parti non contestano il fatto penso che sia così avvocato Repici le chiedo soltanto un secondo dico se volete possiamo acquisire anche quest'altro verbale del 2013 nel quale non c'è il riconoscimento l'avvocato però lo ha posto in qualche modo come contestazione mi pare pubblico ministero difensore di parte civile se non c'è confermate che questa è la situazione non c'è bisogno di acquisire quell'album è vero che nel 2013 non ha riconosciuto in quell'album è così avvocato Repici Presidente io in questo momento non sono in grado di riferire se c'è questo verbale nel fascicolo del PM né di divisionarlo 23 novembre è 12 novembre del 2013 è tribunale procura della repubblica presso il tribunale di agrigenti di calta insetta scusate va bene allora intanto sull'accordo delle parti la corte acquisisce il verbale di interrogatorio reso da onorato Francesco credo alla procura generale scusatemi il verbale che stiamo acquisendo è del 2017 procura generale la data precisa 11 luglio 11 luglio 2017 dinanzi alla procura generale di Palermo è l'allegato nella parte relativa al riconoscimento della fotografia numero 20 sì è l'allegato album fotografico nella sua interezza avvocato scozzola pubblico ministero no 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 per carità siamo d'accordo abbiamo acquisito il verbale sull'accordo delle parti avvocato Monica avvocati quindi il verbale del 2017 nella parte relativa al riconoscimento della fotografia 20 20 sì è l'intero album fotografico allegato al riconoscimento questo è quello che abbiamo acquisito e che adesso magari il pubblico ministero ci agevolerà verificate questo episodio abbiamo verificato col procuratore generale che abbiamo verificato col procuratore generale che il verbale di interrogatorio anche se è solo riassuntivo ma così c'è stato depositato fa parte del fascicolo tant'è che loro ce l'hanno se non l'ho ricordato lo volete visionare prego avvocato lo mostri alle altre parti perché se la circostanza è questa è inutile allegare carte ecco quello è il discorso se la circostanza è questa lei l'ha già confermata lei ricorda mettiamola così intanto signor onorato lei quindi nel 2017 le è stata mostrata un album un fotografico e lei poi pare all'esito di alcune iniziali incertezze ha riconosciuto in quella foto questo signor Aiello questo lo ricorda? sì è facile io lo dico pure il motivo signor Presidente eh ci dica perché non certe volte uno va beh va beh non facciamo commenti ci dica qual è il motivo? sì allora quando mi è stata fatto vedere questa foto di di Aiello dell'opera cura di Caltanissetta io ero eh stato mi era stata revocata un beneficio eh un beneficio che io ero tornato in carcere e quindi non è che non avevo voglia ma ero così superficiale eh da andare avanti nelle foto senza neanche farci attenzione ma questa è la prima la prima cosa quindi questo sta parlando del fatto del 2013 2013 sì quindi lei conferma che sì signora onorato un attimo soltanto quindi lei conferma che nel 2013 l'era stato mostrato un album fotografico e lei non ha riconosciuto la foto di di Aiello ma ma sa quante volte mi succede perché nelle nelle foto non è che sono cose bravo aspetti signora io con il salvatore lo piccolo guardi signor presidente c'ho venti omicidi eh fatti assieme e in una foto neanche lo lo prendevo ma e quindi quindi nel 2013 lei non lo aspetta quando la mente viene sollecitata o solleticata da alcuni fattori poi dici ma io pure là l'ho visto mi capisce che voglio dire signor presidente no è perfetto quello che lo abbiamo capito però diciamo il fatto lei sta sta dicendo le ragioni per cui nel 2013 conferma che l'è stato mostrato un album nella quale c'era la foto di Aiello e lei sta spiegando perché in quella circostanza non lo ha riconosciuto senza neanche guardare guardare bene le cose poi a parte questo il il rammento che mi viene proprio fatto a cento per cento mi viene quando si parla pure del piccolo ma io pure là l'ho vista questo il problema quando uno sa le cose e se le tiene non quando uno si ricorda una cosa e non lo dice per carità io questo mi sto dicendo quindi io credo che l'onorato abbia dato le spiegazioni che sono necessarie nel senso che conferma che nel 2013 gli era stato mostrato l'album e non l'aveva riconosciuto sul riconoscimento del 2017 abbiamo acquisito il verbale riconoscimento e l'album fotografico pubblico ministero prego presidente peraltro io rileggendo perché non avevo capito si trattava di questo un verbale che ha acquisito il fascicolo del pubblico ministero tengo a precisare solo un verbale riassuntivo in cui non c'è è un mancato riconoscimento peraltro non c'è nessuna dichiarazione specifica io do il consenso all'acquisizione di questo verbale riassuntivo dal mio punto di vista con allegato album fotografico cioè lei vuole dire non c'è un non lo conosco semplicemente ma l'ho detto io mi era sembrato di capire qualcosa di diverso le parti civili allora io penso che l'argomento sia come dire devo sapere una cosa in maniera tale che continua il contrasame la acquisizione è per tutto il verbale o solo per questa parliamo di quello del 2013 del 2013 sì perché io do il consenso a tutto il verbale così non faccio ulteriori domande beh dico subito no per carità Presidente ok esatto giustamente avvocato di parti civili avvocato monastra avvocato molica Presidente se è possibile sul verbale mi riserverei alla prossima e però non ce l'ho sott'occhio lo so magari io vi chiederei anche sospendendo perché il problema è che l'avvocato Scozzo ne fa una questione cioè se acquisiamo il verbale lui avrebbe finito tutto il verbale altrimenti doveva fare le domande per carità noi siamo qua per accertare i fatti diciamo lo dicevo a proposito della riserva diciamo che è una cosa altrimenti andiamo avanti e acquisiamo soltanto nella parte relativa al mancato riconoscimento o all'omesso o all'omesso riconoscimento come volete dire diciamo lo possiamo acquisire solo in quella parte va bene avvocato modica avvocato repici quindi siete tutti d'accordo solo su questa parte o anche e sospendendo cinque minuti potete avere la possibilità di prenderne visione e darci un acquisito e così risolvere questo problema se andare avanti da parte dell'avvocato Scozzo lo meno sull'esame ditemi voi avvocato repici Presidente per me la circostanza era quella relativa alla visione dell'uomo fotografico e su questo io mi fermo va bene e allora avvocato il consenso acquisiamo quindi questo verbale scusi pubblico in quella parte questo verbale mi può dire anche su questo il 12 novembre del 2013 il verbale reso il 12 novembre del 2013 alla procura di Caltanissetta limitatamente alla parte relativa al riconoscimento fotografico all'attività di riconoscimento fotografico di riconoscimento fotografico questo c'è un album allegato si si che è lo stesso di quello no e allora acquisiamo anche l'album fotografico allegato ovviamente e quindi il verbale limitatamente a tutta l'attività positiva negativa neutra di riconoscimento fotografico siamo d'accordo va bene andiamo avanti avvocato Scozzo sento una cosa ma lei oltre a questo soggetto aveva ha conosciuto mai persone esterne a Cosa Nostra che hanno uno sfregio sul viso bene a Cosa Nostra sì c'era un certo Baglione che praticava pure il Galatolo che gli dicevano non mi ricordo come si chiama Baglione di nome però era sempre di Via Montalbo ho capito era era sempre di Via Montalbo Via Montalbo io sempre in relazione a quanto lei ha dichiarato no scusi e questo soggetto che lei ha visto a Vicolo Pipitone fa parte di Cosa Nostra o no? il Baglione o il Poliziotto? no no il Poliziotto il Poliziotto ha già risposto lo so che ha risposto però non ricordo signor onorato non ricordo mi dica avvocato la domanda questo signore con la faccia sfregiata che poi abbiamo saputo che lei ha saputo chiamarsi Aiello e che lei ha visto a Vicolo Pipitone fa parte o non fa parte di Cosa Nostra? faceva parte o non faceva parte? no non mi è stato presentato no e allora sempre sempre all'interno di questo verbale lei a domanda rispondo con riguardo a personaggi esterni a Cosa Nostra con sfregi al viso non ricordo nulla questo è quello del 2013 sembra del 2013 ecco perché ho detto acquisiamolo tutto onde evitare vabbè facciamo le domande e ho fatto la contestazione quindi signor Onorato lei sembra che in quella circostanza abbia detto non conosco personaggi esterni che hanno il viso sfregiato esterni? esterni a Cosa Nostra sì no c'è questo baglione che aveva pure il viso sfregiato questo baglione esterno a Cosa Nostra che praticava pure Galatolo ma quindi perché lì diciamo cos'è non l'ha ricordato era sempre quel discorso che ha detto poco fa perché avrebbe risposto sì cioè ci spieghi quando io ripeto il discorso che confermo quello che ha detto poco fa che quando mi è stato presentato l'album fotografico non ci ho fatto attenzione più di tanto ho capito è sempre in questo verbale però non mi ricordo se ho detto che non non riconosco oppure mi sembra conoscente bisogna vedere bene la trascrizione il problema è che non c'è la trascrizione anche questo è un problema perché se contestazioni fatte sul verbale e riassuntivo per carità io capisco che c'è solo questo quindi le parti non possono fare altro però certo anche la precisazione dell'onorato non è secondaria diciamo e si presente no no ma per carità avvocato io me ne rendo conto dico però tenetene conto tutti anche voi che si tratta di un verbale e riassuntivo che potesse pure che ho detto mi sembra di averlo visto ma può essere c'è bisogno di andare a prendere vabbè sento una cosa sempre invece in questo verbale subito dopo lei dice non parla di questo baglione ma invece dice c'erano invece dei familiari di alcuni uomini d'onore gli abbate della famiglia di Borgo Vecchio che presentavano evidente escrescenze sul viso al viso scusi sì conosco tutti gli abbati e perché nel 2013 non parla di questo baglione no perché non lo so perché non mi viene detta la parola la domanda per tanti motivi non è che l'ultima domanda scusi avvocato posso ovviamente è una dichiarazione dell'onorato però per essere chiari quando poi nel 2017 lei all'esito dell'ulteriore riconoscimento riconosce nella foto 20 la foto di questo signore che si chiamava Iello mi segue onorato sì lei come dire può escludere con certezza sia che si trattasse di baglione sia che si trattasse della famiglia abbate può escludere con certezza che si tratti di questi altri soggetti è giusto con certezza con certezza avvocato sì allora in relazione invece all'omicida Agostino lei a parte quello che ha detto oggi sa altro no quello che ho detto quello che mi sono ricordato ho detto esatto lei ha detto però dico tutto quello che lei ha detto oggi praticamente l'aveva detto nel 2017 in quel verbale io allora le volevo contestare l'anno 96 il giorno 11 settembre né dell'omicidio nulla so delle strage di Capace e di Via D'Amelio nonché di quelle che sono avvenute nel territorio continentale né dell'omicidio dell'agente Agostino e della moglie come è preciso in sede di verbalizzazione Presidente faccio presente le parti chiaramente già lo sanno che questo verbale è stato fonorregistrato però la fonorregistrazione ha avuto qualche problema non è venuto a cose varie non ne so il motivo credo che non ci interessa e il 2 ottobre del 96 questo è dell'11 settembre il 2 ottobre del 96 il pubblico ministero questa volta sì che è registrato va lì e gli legge nuovamente quel verbale quello riassuntivo quello riassuntivo e dando atto che non era venuto il precedente a così via di segreto a domanda risponde nulla so delle strage di Capace e di Via D'Amelio e nulla so dell'omicidio quello che abbiamo contestato per cui lì è sintetico ma qui è fonorregistrato mi può dire per quale motivo all'epoca nel 96 non ha detto quanto ha detto è nel 2017 e oggi scusa io mi oppongo a questo modo di formulare perché io non ho capito a quale contrasto si fa riferimento visto che anche oggi relativamente all'omicidio di Agostino mi sembra che non abbia reso dichiarazioni discorsanti Presidente quindi non se capisco se la domanda se mi fa finire l'opposizione avvocato poi lei controbatte il Presidente le dà la parola non capisco se si riferisce alla daura che cosa alle stragi per quanto riguarda l'omicidio di Agostino mi oppongo a questo modo di formulare la domanda perché secondo me non c'è contrasto Presidente si avvocato Scozzo io per la verità la Corte per la verità ritiene pure che non ci sia un contrasto oggi ha riferito quando lei signor Onorato riferisce nulla so tra le altre dell'omicidio di Agostino cosa intendeva? io questo volevo dire volevo intervenire grazie per me nulla so significa che io quando dico nulla so che non ho partecipato cioè che non sono stato coinvolto nel nel progetto nulla so però poi se si interpreta che non so nulla significa che è un'altra cosa ma nulla so che io non ho partecipato l'ho detto all'epoca all'inizio che ho collaborato e lo ribadisco anche oggi vabbè confesso che si trattava di una cosa che secondo la Corte era abbastanza intuibile ma adesso ce l'ha detta anche l'indagare il collaboratore questi rapporti piazza mazzè e quindi questa perquisizione che c'è stata nei confronti da parte del commiserato di San Lorenzo nei confronti del mazzè il piazza le disse che partecipò pure Agostino il piazza mi disse che era incavolato con questi di San Lorenzo che non poteva vedere alcuni soggetti della caserma di San Lorenzo in quanto lui come se ci rovinavano il il suo percorso alla ricerca di questi latitanti ci siamo no dico io ma questa perquisizione Agostino ha partecipato ha dato l'input di fare perché lei ha dichiarato anche oggi che praticamente uno dei motivi per quale il piazza si lamentava era il fatto che Agostino aveva fatto fare questa perquisizione io voglio sapere Agostino ha partecipato le disse se Agostino ha partecipato se Agostino è stato il soggetto che ha dato l'input in maniera più chiara ma lui teneva responsabile la caserma la caserma di San Lorenzo di cui faceva parte pure quest'Agostino e questo di qua quindi non mi ricordo se mi aveva detto se aveva partecipato alla peccosezione non aveva partecipato quindi genericamente quindi genericamente riteneva responsabile il commissariato di San Lorenzo di San Lorenzo sì e senta ma le disse che attività svolgeva Agostino all'interno del commissariato no no non 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 mi ricordo non si ricorda Presidente nessun'altra domanda Pubblico Ministero Prego Pubblico Ministero sì solo per molto velocemente per una circostanza specifica che è immersa nel controesame mi riferisco al progetto di omicidio del dottor La Barbera a cui abbiamo fatto riferimento del dottor La Barbera La Barbera chiedo scusa signor Onorato lei ricorda se diciamo il progetto di omicidio di La Barbera è stato si è verificato solo in un certo periodo e si è stato diciamo riproposto più volte più volte ecco mi vuole precisare questo che non era emerso in precedenza questo anche per poi per la collocazione temporale delle situazioni c'è una prima volta quando è stato ho sentito parlare di La Barbera per il fatto della rapina di quel che lui aveva ucciso dentro il salone di Barberia e poi successivamente è stato di nuovo nel 92 mentre che lui alloggiava all'appella del Golfo a Terrasine cinesi in località questo quindi una prima volta evidentemente precedente al 92 perché se la seconda è del 92 quando si è verificato che sta prima si è creato questo primo progetto di uccidere della Barbera lei ha detto prima domanda dell'avvocato Scott 85 86 ricorda effettivamente così ha detto giusto? 84 84 85 rispetto al periodo in cui lei è stato per tre anni detenuto è stato primo o dopo? Questo lo può ricordare? troppo sono tempi lontani non riesco a localizzare comunque stiamo parlando sempre 87 88 quindi comunque mi conferma che la seconda volta diciamo questa seconda volta è stato invece successivamente nel 92 ha detto giusto? nel 92 me lo ricordo perché era estate e io personalmente sono andato alla Bella del Golfo a pedinarlo e a seguire gli abitudini per come si poteva fare per evitare il rumore e altre cose ecco ma rispetto alle due fasi di cui abbiamo parlato l'intervento di Madonia Nino per bloccare questo progetto di cui lei ha parlato quando interviene ecco sostanzialmente nella prima volta o la seconda volta? la prima volta e la seconda volta perché poi non si va a perfezionare questo progetto? poi la seconda volta non si è fatto per motivi del che abbiamo dato priorità ad altre cose e poi contemporaneamente vengono fatti i mandati di custodia cautelare io vado lati tante insomma succedono tante di quelle cose dice per l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima sì perché siamo a settembre e si era accantonato per dare priorità ad altre cose e contemporaneamente fine settembre fanno le custode cautelare io vado lati tante insomma poi succede tutto quello che si è perfettamente in linea con quanto risultava grazie non ho altre domande Presidente se le parti lo consentono ho dimenticato una domanda poi ridaremo a tutti la parola Avvocato faccia senta questo ordinanza di custodia cautelare di Lima cui lei si è sottratto per quei motivi che ha detto grosso modo si ricorda quando è stato il mese e l'anno non voglio il giorno quando è che si è reso lati tante lei io mi sono reso lati tante e ho fatto la nomina a lei come Avvocato che lei era il mio Avvocato il mese di ottobre 92 92? sì prima dell'omicidio no l'omicidio è del 12 marzo 92 ottobre 92 soltanto un errore Avvocato Repis altro? no nessun'altra domanda anche su questo ovviamente la parola alle altre parti che lo hanno dedotto il Pubblico Ministero credo che abbia concluso anche l'Avvocato Repici lo aveva dedotto in lista credo anche voi ma non avete domande Avvocato Modica no nessuno sì solo per completare l'esame Avvocato Repici signor onorato lei conosce un ristorante che si chiama Aloa o Aloa d'Oro conosceva? sì di un certo Pasquale la prima strada sotto Monte Pellegrino non ho altro modo che fare la domanda diretta lei sa se era frequentato da Gaetano Scotto? sì lì ci andavamo tutti io Gaetano Scotto Enzo Galatolo era un ristorante che praticamente frequentavamo tutti lui Gaetano Scotto frequentava pure il ristorante alla Renella dei Florio che era anche intimo amico dei Florio che hanno una tenuta lì al ristorante che hanno appetto per un ristorante successivamente lì alla Renella comunque signor onorato limitiamoci credo che la domanda dell'Avvocato riguardasse un ristorante specifico se ne frequentava altri non so interessa all'Avvocato? sì mi ha preceduto in realtà perché ci sono altre fonti questo ristorante dei Florio è nella nella zona della Tonnara? sì la Tonnara della Renella sì e un'altra cosa c'è una ragione per la quale lei Scotto Enzo Galatolo frequentavate il ristorante Aloha d'Oro? ma perché Pasquale era una persona di fiducia dove ci andavano anche latitanti a mangiare era un ristorante di nostra fiducia e questo Pasquale era il titolare? il titolare sì va bene nessun'altra domanda grazie va bene io ho soltanto un paio di chiarimenti signor onorato lei allora è possibile che lo abbia già detto Vitolo Forte aveva lei ne ha parlato ha detto anche quali erano i suoi rapporti ha detto qual era la considerazione insomma dell'Oforte ma era organico a qualche famiglia specifica? famiglia mafiosa intendo sì alla Renella lui era vicino alla famiglia della Renella ma molto intimo pure che poi fanno lo stesso mandamento dei Galatolo senta parlando questo potrei avere dei collaboratori se non ho capito male di piazza lei ha fatto alcuni nomi può essere Speranza e altri o sbaglio io? sì 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 e chi sono questi soggetti se ce lo vuole precisare un attimo? ma il commissario Speranza era il capo della squadra mobile anni fine settanta non mi ricordo quello che poi è stato trasferito da Palermo ammessi quindi sempre nell'ambiente della polizia insomma sì 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 ho capito senta poi lei ha fatto riferimento le è stato chiesto lei ha parlato di reati commessi da lei con Scotto Gaetano ha fatto riferimento a quel progetto di strangolamento che poi non è andato in porto poi ha riferito di estorsioni fatte assieme è così? sì adesso io le chiedo invece lei ha conoscenza di delitti commessi da Scotto con Madonia non con lei quindi con Madonia no 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 non sono a conoscenza se no l'avrei l'avrei detto va bene e allora possiamo chiudere l'esame grazie signor onorato ringraziamo ringraziamo la collaboratrice che ci ha assistito dal luogo remoto grazie ringrazio ringrazio lei ringrazio da parte nostra sempre il presidente che ci consente anche di usufruire delle sue strutture e del suo personale grazie grazie buonasera signor presidente buonasera a voi arrivederci avvocato ringraziamo anche lei avvocato grazie Avellone avello chiedo scusa grazie presidente ringrazio lei grazie allora pubblico ministero presidente io produco allora questo punto perché mi sembra che questo era il risultato dell'accordo tra le parti il verbale l'interrogatorio reso da onorato il 12 novembre del 2013 all'autorità alla procura di Caltanissetta nelle pagine utilizzabili per quanto ci riguarda nelle pagine parte finale pagina 4 e pagina 5 sono poche righe in tutto un allegato album fotografico io per conto della corte voglio dire ovviamente noi abbiamo già fissato i paletti che sull'accordo delle parti ce l'ho voleto omissato per la corte non c'è problema ho fatto questo riferimento a verbale proprio ma sono stati sì il riferimento ha fatto bene ma comunque già la corte aveva fissato i paletti nei quali comunque sarà acquisito e utilizzabile il verbale in questione pubblico ministero questo con l'allegato album fotografico e poi la trascrizione del invece interrogatorio reso alla procura generale l'11 luglio 2017 questa si tratta di trascrizione la parte relativa alla visione dell'album fotografico parte della pagina parte finale 102 lo dico giusto per perfetto perfetto e comunque questo è quello che è stato acquisito io produco però integralmente gli atti va bene e anche questo con l'allegato album fotografico no questo no diciamo qua non ce l'ho era acquisito al fascicolo del PM mi riservo di allegarlo comunque immagino che nel verbale ci sarà scritto la foto diamo atto che la foto numero 20 rappresenta scotto interessa però vedere che la foto 20 e la foto 1 va bene siccome formalmente lo abbiamo pure acquisito lo produrrete alla prossima udienza il pubblico ministero si farà parte diligente alla prossima udienza prima di andare diciamo all'attività della prossima udienza io vi volevo dire che per questioni che ho detto più volte la non disponibilità grazie esclusiva di quest'aula per questa corte rispetto al programma che avevamo dato l'udienza del 4 marzo 2022 che era stata calendata non potrà l'aula è impegnata per altra attività indifferibile di altra autorità giudiziaria quindi io visto che comunque c'è un conguo anticipo ancora lo anticiperei il giorno 4 al giorno 3 marzo che è un giovedì anziché un venerdì ve lo comunico quindi anziché il 4 marzo modifica parziale del precedente programma sarà il 3 marzo allora pubblico ministero la prossima udienza è prima di dare l'indicazione per la prossima udienza chiedo scusa prego mi rendo conto che allora devo depositare supporto informatico con una serie di sentenze definitive che riguardano le posizioni di Natale Giusto Grado Giovanni Giuffri Antonino e Palazzolo Salvatore indicate nella nostra lista come diciamo imputati che abbiamo già sentito tra l'altro sì quindi quindi sono sentenze irrevocabili che riguardano su questo sull'acquisizione del supporto informatico contenente c'è ovviamente un indice specifico allegato nessuna posizione così come beh scusi così come c'è un indice specifico riguardante le dichiarazioni di Giuffri Antonino che già l'accordo di cui già l'accordo delle parti disposti all'acquisizione ma che dovevo materialmente produrre e sono tutte quelle che ho rinvenuto evidentemente nel fascicolo del pubblico ministero sono del 12 novembre 2002 14 giugno 2013 1 ottobre 2014 2 ottobre 2014 e infine 23 luglio 2020 sì io adesso correggetemi se sbaglio ricordo che effettivamente alla scorsa udienza ci fu l'accordo per il consenso delle parti tant'è che mi pare non l'abbiamo sentito anzi non mi pare non l'abbiamo sentito il Giuffri il pubblico ministero in quella circostanza non era stato nelle condizioni di indicare specificamente gli esami gli interrogatori che sono stati acquisiti lo sta facendo adesso cioè confermate tutti l'accordo il consenso all'acquisizione di questi atti e allora la corte grazie Marcello sull'accordo delle parti dispone ad acquisirsi il supporto informatico contenente le sentenze irrevocabili relative ai collaboratori di Natale Grado Giuffre Palazzono analiticamente indicate sono sentenze irrevocabili quindi ex articolo 238 bis del codice di procedura penale analiticamente indicate nell'elenco allegato nonché conferma l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni resi dal collaboratore Giuffre Giuffre Antonino virgola già formalmente acquisita alla precedente udienza virgola dichiarazioni come specificamente indicate nell'allegato elenco oggi prodotto va bene allora la prossima udienza dicevamo è l'11 di gennaio pubblico ministero e quindi noi vorremmo citare quali test indicati nella lista d'accusa contrada Bruno e Paolilli Guido grazie Paolilli sono testi diciamo che esauriscono l'udienza giusto sì ritengo va bene ci sono osservazioni e allora la Corte rinvia per il proseguo all'udienza dell'11 di gennaio 2021 eh chiedo scusa 2022 presso quest'aula bunker del complesso Ciardone autorizzando il pubblico ministero alla citazione dei test indicati contrada e Paolilli si dispone per tale data la riattivazione della videoconferenza con l'imputato detenuto a distanza grazie l'udienza è tolta